di Matera 2019 e lo fanno anche le altre regioni del sud. Adesso all'interno della CRU siamo stati coinvolti nel progetto delle universiadi perché anche quelle coinvolgeranno tanti giovani e per i quali mi è stato chiesto nel mio ruolo di Presidente della Fondazione di collaborare per mettere in campo azioni comuni per attirare sempre più giovani nel nostro sud. Quindi io vi ringrazio a tutti per essere qui e vi chiedo di essere presenti, anche di stimolarci proprio come cittadini sulle cose che facciamo e sulla possibilità anche di farle meglio. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a Aurelia, non lo puoi lasciare aperto, non ti preoccupare. So che forse non riuscirai a stare con noi tutta la sera perché i Revisori dei Conti dell'Università ti chiedono un approfondimento sul lavoro che stai svolgendo. Ti ringrazio anche a nome di tutto lo staff per la dedizione che metti in questa assistenza, totalmente gratuita, con questo doppio ruolo molto gravoso, oltre quello dell'Università anche quello della Fondazione. Io intanto vorrei veramente ringraziare tutti quelli che collaborano con noi, che hanno collaborato in questi anni. Vediamo se funziona. Sì. E vorrei farvi vedere, forse qualcuno già l'ha visto, è un pochettino scentrata l'immagine sullo schermo, ma insomma è comunque comprensibile. Questa immagine l'abbiamo pubblicata sull'edizione natalizia del Sole 24 Ore, del Domenicale del Sole 24 Ore, e fa vedere tutto il percorso. Per me questa sera è particolarmente importante, prima che domani si lavori con Ariane, con Ida Leone, con Rossella Tarantino, con Massimiliano Burgi, con Rita Orlando, con tutte le persone che si occuperanno dello sviluppo dei progetti, far capire il quadro dentro il quale siamo inseriti. Perché non si tratta solo di fare i progetti, ma di capire quali sono gli obiettivi ai quali dobbiamo tendere tutti insieme. Come diceva Aurelia, in realtà il nostro obiettivo è ben oltre il 2019, e non si tratta soltanto di mattoni, ma si tratta soprattutto di neuroni, della capacità di costruire nuove competenze e nuove relazioni per che queste cose ci amplino i nostri mercati e le nostre opportunità di sviluppo a partire dal 2019. Il 2019 sarà l'occasione in cui far vedere al meglio di che cosa siamo capaci, però le relazioni che costruiamo oggi per il 2019 devono consentire di andare avanti almeno nel triennio successivo. E questa cosa non è soltanto sulla carta, è anche scritta proprio nel nostro bilancio, nel bilancio della fondazione che prevede circa il 9% di risorse per continuare il lavoro anche i tre anni successivi per la distribuzione di tutto quello che andremo a produrre insieme in questi anni. Quindi si tratta di un lavoro lungo, faticoso, nel quale è molto facile, molto spesso, non trovarsi d'accordo in alcuni argomenti quotidiani, ma nel quale è importante invece avere un accordo complessivo sulla visione e sulla disponibilità a collaborare. Non importa se, più a cito e io discutiamo ogni tanto su un punto specifico che non funziona. Anzi, è molto importante che cerchiamo di metterlo a posto, quella cittopia, perché è la persona, diciamo, l'esempio della dialettica positiva. Ma la possibilità invece di guardare le cose per superarle e per costruirle, diciamo, in una dimensione complessivamente, diciamo così, e collettivamente condivisa. Siamo partiti con un primo dossier che non a caso si intitolava Insieme e ricordo che anche il dossier con cui Plodviv ha vinto la candidatura si intitola Insieme. Quindi evidentemente questo tema non è casuale a livello di comunità e non è casuale a livello di Europa. È un momento in cui, se stessimo dietro a quanto ci aveva un po' insegnato negli anni Ottanta un grande filosofo come Gianni Vattimo e che poi Sigmund Baumann ha invece in maniera meravigliosamente più articolata, più dettagliata e più analitica ci ha raccontato nei suoi libri, soprattutto negli anni 90, siamo in una situazione così frammentata e così liquida che la società sembra non esistere più. Non esistere più le comunità, non esistere più le relazioni istituzionali, non esistere più le istituzioni, non esistere più gli obiettivi collettivi. Anche noi l'abbiamo sentita e la stiamo sentendo questa cosa. Allora io credo che tutti questi, tutti noi che siamo qui, non siamo noi in un momento e poi quando usciamo da qui dentro non lo siamo più noi. Quindi vi fate, ci facciamo un applauso di incoraggiamento, di forza, di voglia di stare insieme, prolungato, sentito, partecipato, a prescindere dalle differenze, dalle distanze. Questa opportunità è un'opportunità che muove innanzitutto la pancia e dopo la testa e dopo ancora gli interessi, che ovviamente ci sono, gli interessi ci sono, ma gli interessi devono essere composti, devono essere composti dalla società e dalle relazioni. E io credo che questo lavoro sia un lavoro così importante e anche così nutrito che non c'è bisogno di fare tanti sforzi per comporre gli interessi, perché ci sono così tante cose da fare che è molto strano passare del tempo a litigare sui singoli punti, c'è molto più bisogno di lavorare sui singoli contenuti. Quindi se la missione del primo dossier era mettere in luce la disponibilità di una collettività, stare tutti insieme, il secondo dossier ha messo in campo invece in maniera molto più verticale dei contenuti, che adesso dobbiamo realizzare senza sé e senza ma, un po' perché ce lo chiede l'Unione Europea, un po' perché è anche l'unica vera roadmap che abbiamo e sulla quale vorrei dire una cosa con molta chiarezza che la Presidente ha accennato, la Fondazione ha in carico poche cose, anche perché è fatta di poche persone, molte cose ce le hanno in carico quelle istituzioni che sentirete parlare dopo e che invece giustamente hanno decine, se non centinaia di addetti che lavorano per realizzare parte di elementi coerenti. Quindi la Fondazione è sostanzialmente una piattaforma di crescita del sistema, serve per far realizzare cose e serve perché queste cose non vengono realizzate così come si sarebbero realizzate comunque, ma con un'iniezione di creatività, di Europa, di visibilità, di ritorni, di relazioni, che fanno sì che quell'operazione che singolarmente sarebbe valida, resa collettiva, diventa molto significativa. Veniamo da un weekend molto bello in tal senso, dove a Matera, una dozzina di associazioni che si occupano di lettura hanno consentito, e io voglio ringraziare in particolare e facendo ancora un applauso anche a loro, tutti i bibliotecari della nostra biblioteca provinciale Stigliani, vorrei ringraziare anche il Presidente della provincia che ci ha dato tutta una serie di autorizzazioni, perché chi ha avuto l'occasione di visitarla ha visto che l'abbiamo aperta tutta e che non c'è stata soltanto l'apertura della biblioteca, si è tornati a passare attraverso la mediateca, che non è un corpo aggiunto o estraneo, e si è saliti fino al bar che di nuovo non era un elemento che non c'entra con il palazzo dell'Annunziata. Noi ci crediamo al fatto che, non soltanto attraverso delle opere fisiche, perché in quel caso abbiamo scoperto, con Massimiliano Burgi, che ringrazio, che bastavano tre chiavi, guardate, non c'erano da buttare giù dei muri, erano tre chiavi di porte trasparenti, quindi era semplicissima questa operazione, basta volerla fare e basta crederci in maniera costante. Contemporaneamente tre radio lucane selezionate attraverso una piccolissima call online, altre avrebbero potuto partecipare, non hanno avuto i tempi e i modi per farlo, sono state i nostri ospiti al più importante appuntamento radiofonico europeo che si chiama Radio City e hanno raccontato Matera e la Basilicata davanti a un palcoscenico straordinario nel cuore di quella Milano tanto famosa e tanto decantata che è la Milano di Porta Nuova, quindi lo spazio, diciamo così, dove oggi c'è l'Unicredit Pavilion, dove proprio lì dentro, disegnato meravigliosamente da Michele De Lucchi, dove proprio da lì dentro 50 radio, una decina europee, una ventina nazionali e altri eventi regionali si sono alternate e questi ragazzi delle radio lucane ci hanno detto è fantastico, non avremmo mai pensato in vita nostra di poterci permettere qualcosa del genere. Chi c'è delle radio che non li vedo? Eccoli qua, dov'è? Oh, eccoli. Ciao, bentornati. Magari dopo vi chiediamo quando parliamo di comunicazione di dirci com'è stata questa esperienza. Quindi queste cose erano dentro il dossier di candidatura, no? Il tema della radio come elemento portante, quindi sarebbe bene che non ce lo dimentichiamo e che lo perseguiamo in maniera molto decisa. Cosa devo fare? Ecco così. Il momento più emblematico e si deve dire anche un po' più mitologico, io vorrei un po' ricordarci che cos'era il 2012 e anche un pezzo del 2013. Il 2012 e il 2013 nessuno avrebbe mai pensato che questo progetto era un progetto così significativo. C'era molta diffidenza, c'era anche in certe volte anche un po' di astio, c'era molto dubbio su cosa si stava facendo, su come si faceva. Quindi io non vorrei che ci dimenticassimo quel momento come se fossimo sempre stati così. Non è vero, non eravamo stati mai così prima e non lo siamo neanche mai più stati dopo. Quindi evidentemente è stato un momento francamente eccezionale di grandissima coerenza, di grandissima convergenza e se si può dire di grandissima libertà dove tutti hanno potuto fare molto perché erano messi in condizioni di essere totalmente autonomi. I sindaci della provincia di sentirsi di un'altra provincia anche se amministrativamente non lo erano e i ragazzi diciamo così incitati da un post di Ida Leone a mettersi in cammino assolutamente autonomi e senza bisogno di risorse per fare questo cammino per arrivare fino a Matera. Le persone che hanno ospitato nelle loro case assolutamente non individuate ex ante ma attraverso un bando. Quindi tutta buona volontà come la buona volontà e va il mio personale applauso e ammirazione per le persone che hanno appena sistemato quel bellissimo campo da basket di cui tutti abbiamo visto le immagini proprio nella giornata di sabato e di ieri e che stanno facendo queste cose perché secondo me ormai questo spirito del lavoro collettivo per la collettività è passato è diventato diciamo così una modalità di lavoro per cui non è che la fondazione deve soltanto spingere ma certe volte deve anche seguire può anche seguire delle cose che già ci sono le può anche solo tra virgolette accompagnare quello che è importante è che si legga questo quadro complessivo di condivisione e di compartecipazione che lì ha trovato il momento massimo diciamo così di visibilità per un gesto se volete molto semplice che è quello che è stato di produrre una bandiera che però non è che ciascuno soltanto ha preso quella bandiera e l'ha appesa ma quella bandiera ciascuno ci ha scritto ci ha disegnato ha detto che cosa voleva lui metterci di valore su quella bandiera quello è il segreto di quello che abbiamo fatto in passato e anche il segreto minimo per cercare di fare quello che dovremmo fare in futuro che cosa dobbiamo fare beh dobbiamo intanto ricordarci qual è l'obiettivo l'obiettivo è di diventare il cuore della cultura digitale del Mediterraneo e dobbiamo perseguirlo il più possibile in tutte le azioni e con tutte le opportunità tenendo presente quali sono i nove valori che abbiamo indicato nel dossier che sono valori fortemente condivisi credo da tutti mi spiace che l'immagine così chiara sul mio dossier sul mio monitor di ritorno sia così sbiadita in realtà nella proiezione in questo turchese forte che qualcuno vede lì lì diventa un azzurrino cilestrino un po' sfigato frugalità collaborazione accessibilità coraggio generosità passione marginalità magia queste sono le cose che chiediamo a tutti i nostri partner pubblici e privati di portare avanti per mettere e realizzare le attività previste in un dossier di candidatura che si compone di 52 milioni di euro questi sono quelli a disposizione solo ed esclusivamente per la fondazione che si compongono e dopo ne parleremo di ringrazio in particolare il dottor Manti e la dottoressa Santoro che ci stanno aiutando e stanno insieme al dottor Romaniello componendo anche le forme giuridico amministrative per niente facili ve lo assicuriamo non è uno scherzo non è una semplice attribuzione di quelle risorse per dire mo spendetele non si può fare così lo sapete dobbiamo mettere in moto un iter anche difficile diciamo così di progettazione e di rendicontazione metà di quelle risorse provengono appunto dalla regione basilicata 11 milioni provengono dal governo 5 milioni provengono dal comune di Matera e anche in questo caso stiamo discutendo con i tecnici del comune come riuscire ad attribuire queste risorse che al momento non sono arrivate quindi va detto con molta chiarezza che è un lavoro anche quello amministrativo che accompagna la progettazione non abbiamo un tesoretto lì pronto da spendere dal quale ogni tanto apriamo la cassaforte tiriamo fuori i soldi e li diamo a chi ci piace innanzitutto non possiamo darli assolutamente a chi ci piace come racconterà anche Ariane Biù e come racconterà anche Giuseppe Romagnello nelle modalità che ci siamo dati in queste settimane di modernizzazione della nostra macchina amministrativa che prima era praticamente totalmente assente e con questo ringrazio Antonella Buono che da sola ha un po' sopportato tutto quello che c'era da fare nei tre anni precedenti senza un direttore della valentia dell'esperienza di Giuseppe e poi 7 milioni di euro da proventi di sponsor e 4 milioni di euro di entrate da bigliettazioni e da vendite di merchandising queste cose le ricordo hanno una temporalità precisa quindi ci sarà una cerimonia inaugurale il 19 gennaio del 2019 alle ore 19.19 con tecnica cinese e una cerimonia di riapertura dobbiamo togliere questa parola chiusura chiedo scusa che è un termine che non ci piace e che non ci appartiene della riapertura per i tre anni successivi che sarà il 20 dicembre del 2019 ci saranno 4 grandi mostre delle quali avete letto ma ve lo ricordo il Consiglio di Amministrazione ha individuato i responsabili scientifici e per questo chiedo già a Marta Raguzzino se si accomoda qui con noi di fianco alla Presidente Sole perché così le darò fra pochissimo la parola la prima è una mostra che sarà la cui scrittura abbiamo chiesto a Pietro Laureano visto la sua notorietà esperienza e anche l'astraordinario lavoro che fece per portare questa città a diventare patrimonio mondiale UNESCO nel 1993 ed è dedicata a tutte le città come Matera nel mondo è una mostra evidentemente di architettura e di antropologia la seconda mostra è una grande mostra di arte di racconto di storia dell'arte ma anche di storia dell'Italia cioè il rinascimento riletto da sud tutte queste mostre saranno fatte in partenariato con altre città e con altre regioni in particolare questa seconda mostra è stata pensata in collaborazione con la città di Lecce la terza mostra è dedicata a un personaggio straordinario che ha segnato la storia dell'umanità che è Pitargora proprio oggi ci siamo sentiti con Pier Giorgio Di Freddi per fissare con lui la prima riunione di progetto su questa mostra e che verrà realizzata in collaborazione con la regione Calabria e in particolare con la città di Crotone con cui condividiamo come Basilicata la storia di questo grande esiliato che poi ha portato dei vantaggi competitivi straordinari a tutta l'umanità e poi la quarta mostra di chiusura e di rilancio del 2019 sarà curata da Armin Link grande fotografo archivista curatore scientifico di mostre molto importanti la più recente a Milano al PAC di Milano dove ha già tirato fuori dai suoi archivi oltre 10.000 immagini a lui abbiamo chiesto di curare una mostra dedicata al concetto di antropocene quindi al concetto diciamo così di come l'umanità sta fruendo del nostro pianeta e di come potrà farlo anche meglio in futuro dal punto di vista della sostenibilità quindi sarà una mostra che mette in gioco tutto il tema degli archivi di cui poi Rossella Tarantino vi parlerà ma anche tutto il tema proprio della sostenibilità e poi ci saranno 50 produzioni originali una per ciascuna settimana la metà di queste verranno coprodotte concrete con la scena creativa di questo vi racconterà fra un attimo Ariane Biù subito dopo degli interventi di Rossella di Massimiliano Burgi e di Rita Orlando proprio sulla dimensione della partecipazione della città alla costruzione di questi temi io vorrei chiedere subito a Marta Raguzzino insomma il lavoro che il polo museale della Basilicata intenderà svoggere forse posso metterti una slide se vuoi con il territorio ti lascio la parola prego grazie mille buonasera a tutti è bellissimo ritrovarsi qua e così tanti è davvero finalmente ci ritroviamo e per continuare a usare questo verbo io mi riconosco e mi ritrovo molto nelle parole che ha detto la Presidente Sole con cui si è introdotto questo pomeriggio e seguo dall'interno come ha detto prima Paolo il percorso questi anni di lavoro che ci hanno visto davvero camminare insieme dalla fine del 2010 verso il 2013 il 2014 e finalmente adesso oggi e Paolo ha sintetizzato il contenuto del dossier che adesso tutti insieme dobbiamo realizzare che si sta già realizzando ha dato i tempi gli appuntamenti e gli elementi principali penso che la maggior parte degli amici presenti forse tutti gli amici presenti conoscono il dossier a memoria come hanno conosciuto il dossier precedente quello giallo quello che segnava un po' il metodo e gli elementi e Paolo li ha già ripresi della costruzione della comunità culturale della costruzione della partecipazione poi ci saranno i nostri amici Paolo l'ha appena detto che parleranno proprio di di questo io non voglio parlare e credo che non sia questo il mio compito della mostra che avrò l'onore di coordinare insieme a chi verrà a lavorare con noi poi magari dico qualcosa alla fine però ho invece il compito il piacere di dire qualche cosa su quello che il Polo Museale sta facendo e come istituzione che ha cambiato un po' forma eravamo la soprintendenza le persone che lavorano con me adesso fanno parte del Polo Museale della Basilicata e si sono aggiunte altre persone altre realtà come Polo stiamo facendo assieme alla fondazione assieme alle altre istituzioni assieme al Comune di Matera alla provincia alla regione tutte le istituzioni che ringrazio per il lavoro che facciamo insieme e agli altri 130 comuni della Basilicata perché questo Paolo l'ha già cominciato a dire l'ha detto prima anche Aurelia tutta la nostra tutta la nostra regione si è si è mobilitata nella maggior parte delle realtà della nostra regione qualcosa sta succedendo io mi occupo adesso noi ci occupiamo adesso del sistema museale della Basilicata del Polo Museale regionale che raccoglie intanto i musei e i luoghi della cultura statali la missione in tutta Italia con la riforma Franceschini di questi Poli Museali è quella di costituire e favorire le azioni di valorizzazione territoriale e la realizzazione vera e propria non soltanto retorica del sistema museale territoriale e quale migliore occasione che il lavoro che stiamo facendo da anni in questa regione che è appunto come dire diventa un esempio e diventa un punto di riferimento l'ha detto prima molto bene Aurelia siamo guardati e non soltanto da sud e quindi con i nostri numeri piccoli di densità demografica con il nostro territorio abbastanza contenuto con le nostre realtà museali che sono interessanti si riesce a fare qualcosa che forse nelle altre regioni si fa adesso più fatica a fare quindi siamo molto osservati siamo davvero molto osservati non solo da Roma siamo osservati da sud siamo osservati da nord e quindi ci siamo caricati tutti insieme di una responsabilità straordinaria dobbiamo ricordarcelo questo perché è una vera responsabilità che come comunità territoriale portiamo avanti allora noi stiamo lavorando a parte le attività che il Polo Museale insieme alla Fondazione sta facendo e che continuerà a fare all'interno dei musei a partire da Palazzo Lanfranchi che come tutti voi sapete è stato un po' il motore il fulcro intorno a cui sono girate le attività degli anni passati non solo chiaramente non solo però è stato ricordo una per tutte la grande mostra dedicata ai 50 anni del Vangelo secondo Matteo che è stata un po' un inizio di un percorso è stata la mostra che la commissione che ci è venuta a visitare quel 7 ottobre delle 7 hours che guardavamo prima nella slide di Paolo che la commissione la delegazione della commissione ha visitato e che ha dimostrato le capacità di produzione culturale della nostra regione quindi queste sono le attività da quell'esempio le attività che stiamo portando avanti in questo momento a Palazzo Lanfranchi c'è una mostra interessante vi invito a venire a vedere è un modo diverso di guardare Matera mostra fotografica ci stiamo molto dedicando alla fotografia ma quello che mi preme dire è quello che le grandi opere io ritornerò a parlare Paolo diceva non mattoni ma neuroni io ritornerò a parlare di lavoro sulle strutture quindi di lavori insomma di finanziamenti e di lavori veri e propri perché oltre agli 11 milioni del governo che arrivano dal nostro ministero che arrivano per il programma che arrivano al comune con altri finanziamenti di cui parlerà il sindaco noi siamo riusciti ad ottenere come regione a partire da Matera dei finanziamenti importanti sul programma operativo nazionale sui PON non so se la slide ce l'ho alle spalle forse no ma di numeri io li dico li dico a memoria sono anche un po' diversi da quelli che vedrete che non riguardano soltanto il nostro polo ma riguardano tutte le nostre strutture anche la soprintendenza e insomma gli altri uffici del ministero partendo da Matera stanno per avviarsi stiamo affidando gli incarichi di progettazione naturalmente attraverso le procedure di manifestazione di evidenza pubblica che ben conosciamo che sono complesse che portano via tanto tempo perché dobbiamo seguirle con grandissima attenzione perché sono finanziamenti importanti stiamo per far partire dei lavori importanti a Palazzo Lanfranchi per rendere un museo che è già un bellissimo museo che funziona bene ancora più efficace ancora più capace di comunicare contenuti e di produrre contenuti e saranno lavori importanti di milioni di euro e siamo riusciti ad ottenere non sono ancora previsti nel piano dei finanziamenti già certo ulteriori finanziamenti per intervenire sul museo Ridola il museo Ridola è rimasto un passo indietro perché ci mancava la progettazione adesso si va in gara con progetti esecutivi bisogna farli con oltre che delle capacità tecniche che dobbiamo far crescere anche nei nostri uffici con delle idee che dovevano essere sviluppate e subito prima di Pasqua siamo riusciti ad avere la contezza di questo ulteriore finanziamento interverremo sul museo di Metaponto i finanziamenti già ci sono abbiamo già finanziamenti importanti per la messa in sicurezza del museo Ridola del museo di Potenza di Policoro di Grumento e di Muro Lucano sul museo di Metaponto sono arrivati adesso vi dico esattamente le cifre più di 3 milioni di euro per un intervento sono arrivati sì 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 e poi ci sono qua nella slide che voi vedete con forse qualche difficoltà per i toni dell'azzurro e ci sono interventi che non seguiamo noi direttamente su tutti i barchi archeologici della Basilicata Metaponto Policoro Venusa insomma sono moltissimi soldi è un grandissimo lavoro che i nostri uffici stanno cominciando a fare con insomma entusiasmo e partecipazione di tutti ci permetteranno di veramente valorizzare e creare questo inizio importante del sistema museale regionale però la cosa più importante è quello che stiamo cercando di fare con gli altri luoghi con gli altri piccoli sistemi museali che ci sono penso al Mula penso all'ACAM che stanno già facendo loro delle attività assolutamente incomiabili nei territori regionali ecco io voglio mandare avanti come stiamo già facendo degli accordi di programma degli accordi di valorizzazione perché dobbiamo costruire insieme questo percorso l'idea è proprio quella appunto di riuscire entro l'anno a far partire tutti questi lavori e contemporaneamente a stringere questi accordi di valorizzazione a partire da quello che stiamo stringendo insieme con la fondazione e che caratterizza proprio la definizione delle attività culturali che stiamo facendo e che continueremo a fare questa primavera durante l'estate adesso non voglio farvi l'elenco della spesa di tutte le cose che stiamo facendo ma sono cose che facciamo insieme a chi ci collabora e condivide un percorso ho tenuto per ultimo quanti minuti mi date ancora due ho tenuto per ultimo il progetto sempre su questo piano così di hardware di racconto della ristrutturazione di una di un'istituzione importante come quella che ho l'onore e il piacere di guidare sempre nell'ambito dei PON abbiamo ottenuto un finanziamento anche sulla linea non di realizzazione di interventi strutturali abbiamo avuto un finanziamento importante sulla linea di intervento che riguarda la messa in rete e i servizi culturali per la valorizzazione il progetto si chiama Futuro Remoto si richiama a uno dei temi del dossier e riguarda proprio là messa in rete dei musei sia sul piano fisico che su quello della condivisione dei contenuti e quindi è un progetto molto più visionario per il quale stanno già lavorando tante persone che sono presenti in questa sala e altre persone io spero potranno nei prossimi tempi essere coinvolte con i bandi che lanceremo e con le aperture che si riusciranno a realizzare questo è il nostro progetto bandiera per il 2017 2018 tutto dovrà essere terminato entro l'inizio del 2019 quindi ci siamo messi sulle spalle una responsabilità non piccola e che possiamo appunto svolgere con l'aiuto di tutti quanti grazie io torno indietro rapidamente invito sul palco Rossella Tarantino Massimiliano Burgi e Rito Orlando per raccontarci un po' le attività che stanno svolgendo i progetti che entreranno in campo per il proprio coinvolgimento dei cittadini a partire diciamo così da quelli che sono gli spazi dei di lavoro perché la dottoressa Ragazzino lo diceva molto bene io credo che ci sia un dato rilevante ricorrerà io credo tutta la sera per culminare probabilmente l'intervento del signor sindaco cioè si stanno facendo tantissime cose si stanno facendo tutti secondo i propri ritmi i propri doveri ma probabilmente si conoscono poco si conosce poco quanto si sta facendo a fatica come fondazione si conosce poco quanto sta facendo il polo della museale della basilicata che pure sono otto interventi molto importanti guardo Mariano Schiavone col cui poi condivideremo e indirittura d'arrivo lo dirà lui il piano strategico di turismo della basilicata che porterà diciamo così un'offerta completamente rinnovata dopo dieci anni nel 2019 agli operatori internazionali finalmente altri soggetti si affacciano anche a produrre attività originali ringrazio Enzo Santocchirico non solo per la presenza ma per il lavoro che sta facendo con la fondazione Sassi abbiamo visto una prima mostra dedicata a Andy Warhol di grande successo ma è appena stata inaugurata questa importante mostra in collaborazione con l'istituto luce sulla quale poi sicuramente parleremo e torneremo a lavorare insieme perché una volta riguarda tutto il tema degli archivi e quindi si sta cominciando a dare una dimensione diversa dimensione che per quello che riguarda la fondazione Rossella parte proprio anche dalla casa e dagli spazi fisici Buonasera a tutti grazie Paolo grazie per la bella partecipazione come si diceva una volta in discoteca SBG solo bella gente solo cose belle partiamo proprio dagli spazi da dove stiamo noi ora siamo nei sassi noi siamo in quel palazzo che è in Cefalo in Cefalo ok come hai detto voi non da Cristò perché appunto ci sono i lavori siamo nei sassi abbiamo il palazzotto del Casale che è una diciamo una casa iconica però siamo anche dietro nelle casettine di dietro e in quello che si chiama comprensola del Casale è uno spazio praticamente la scelta è stata sin dall'inizio quella di stare nei sassi perché i sassi non sono una città a parte ma sono una città che è una città che è in Matera che è una città che non appartiene solo ai turisti non è solo la città dei turisti i sassi sono la città in cui ci sono anche i turisti ne siamo contentissimi di accoglierli ma città in cui ci sono anche gli abitanti la gente che abita e ci sono anche quelli che producono cultura per cui la scelta è stata quella anche di dire siamo nei sassi perché Matera è anche sassi perché la gente deve venire anche nei sassi e perché poi con i sassi ci troviamo tanti vicini produttori di cultura con cui man mano dobbiamo appunto crescere sempre di più è stato già nominato la fondazione sassi siamo qui dentro a Casa Cava abbiamo la casa di Ortega abbiamo il Musma abbiamo lo IAC che ha abbiamo il laboratorio di 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 Maria Basile che è nei sassi sono tutte officine che ne posso citare altre che producono cultura ed è importante questo messaggio che dobbiamo lanciare l'altra questione appunto siamo in questi spazi in cui in questo momento ci sono i lavori il Comune ci ha assicurato che saremo liberati da questo cellofan e che avremo spazi diciamo anche nella parte superiore nel comprensorio del casale in quegli spazi diciamo che sono confinanti tra per intenderci il terrazzo il terrazzo diciamo delle mostre dei sassi e la casa di Ortega in cui saranno ospitati uffici della fondazione sarà ospitata l'open design school e saranno ospitati anche spazi e anche piazze in cui incontrarsi con i cittadini in cui fare laboratori con le scuole in cui fare workshop artistici questo sempre in collaborazione con tutti questi ovviamente poi nel 2018 ci sarà completato tutto il comprensorio del casale questo significherà ancora di più avere un presidio fondamentale che non sarà un presidio soltanto della fondazione ma sarà un presidio della cittadinanza culturale gli altri spazi però sono anche spazi che faremo sul piano e sono sia spazi virtuali che spazi fisici lo spazio virtuale è quello di lanciare subito dentro l'anno quindi entro l'autunno nuovamente quella cosa bellissima che era stata la community Matera 2019 una cosa bellissima perché era uno spazio digitale ora si chiama piattaforma collaborativa possono essere parole strane però è uno spazio in cui tutti quanti potevano lanciare le loro idee e poterle realizzare in forma collaborativa e con una grande collaborazione diciamo una grande animazione da parte dell'epoca Comitato ora rilanceremo questa piattaforma e contestualmente rilanceremo avremo anche un piccolo budget molto piccolo molto simbolico per far sì che questi progetti di cittadini che possono essere fatti con i cittadini di Matera ma come già stato all'epoca del Comitato sono con i cittadini della Basilicata ma come può essere fatto con i cittadini di Plodviv o di Leovarden oppure di Oslo o di Memphis sono progetti appunto che potranno appunto essere realizzati con un piccolo budget ma che lavorano sul bene pubblico ed è questo uno dei valori importanti cioè una delle cose che noi diciamo per cui siamo stati premiati è proprio quello che abbiamo utilizzato la cultura come propellente per la cittadinanza attiva per lavorare tutti quanti non sul fatto che questo è il progetto mio il progetto più bello ma sul fatto che è un progetto di tutti e che migliora il benessere di tutti ho già detto altre volte appunto che la community è bella perché non sono idee solipsistiche sono idee individuali ma sono idee che vengono fatti con gli altri e per gli altri ed è questo proprio lo spirito con cui ci muoviamo l'altro spazio invece è uno spazio fisico in cui ci incontreremo in cui vi racconteremo insieme al comune insieme alla regione che cosa come si sta trasformando la città in funzione del materiale 2019 ma anche in funzione di quello che accadrà dopo come ci si connette sia fisicamente che virtualmente con l'altra parte con la regione con le altre regioni con le altre regioni d'Europa e del mondo e come si può in realtà questi progetti di cittadini possono essere prendere sempre più corpo e come ci si può incontrare per favorire questa interazione tutto questo vi do delle date perché se no se il medici parla parla entro novembre poi allora il collegamento con l'idea ho perso il professor Mirizzi il collegamento con l'idea è un collegamento perché lavoriamo appunto sulla questione da un lato del digitale e dall'altro della comunità una delle ragioni per cui siamo stati premiati è anche proprio questa importanza che diamo alle tecnologie non in quanto tecnologie che non è una parola che in sé è una parola neutra quella delle tecnologie ma in quanto consentono di favoriscono la collaborazione la cooperazione e che saranno sempre più importanti a partire dal 2019 sempre più nel 2019 il progetto idea nasce da alcuni dati di fatto ricchezza antropologica molto spesso il sindaco dice Matera è la capitale antropologica del mondo e come tale viene riconosciuta quindi una ricchezza antropologica enorme ma molto diffusa diffusa sia a livello pubblico che a livello privato qui viene appunto c'è l'immagine della Cineteca Lucana ma ci sono altre collezioni di fondi vari che sono esistono in Basilicata l'idea è quella presa da John Cage John Cage è un non so dirlo artista poliedrico perché qualsiasi definizione può essere troppo restrittiva che praticamente è detto federiamo questi gli archivi di 45 istituzioni e li rendiamo come cibo per l'arte per fare delle grandi mostre che ruotano sempre anche perché molto spesso gli archivi anche quelli che sono i musei non sono fruibili nessuno li conosce quindi anche un modo perché diventano cibo per la mente per la cultura per l'arte quindi federare i telearchivi e far sì che diventano un cibo per l'arte da cui possono essere fatte una serie di esposizioni con grandi commissioni artistiche noi stiamo pensando anche dei grandi nomi che potrebbero essere anche dei padiglioni d'arte ispirati a determinati temi e che appunto determinati temi antropologici questo lavoro lo stiamo facendo con l'università di Basilicata abbiamo già creato un gruppo in cui ci sono tutte le migliori professionalità dall'antropologia all'archivistica dal designer agli esperti di grandi musei e faremo del 19 al 20 giugno una grande conferenza su quali sono anche i prodotti di questi che si ricavano da questi archivi digitali faremo intenzione di mostrarvi anche che cosa fa il Rijksmuseum che è il più grande museo uno dei più grandi musei del mondo di Amsterdam e che ha messo in digitale la sua collezione e così via poi l'università sta anche lavorando per fare una raccolta anche per lavorare su una frattura che sappiamo tutti quanti ancora esiste tra gli abitanti dei sassi di una volta e gli abitanti di oggi quindi lavorerà anche per raccogliere un nuovo archivio di questo tipo e verrà fatta poi nell'anno o al più tardi inizio dell'anno nuovo una grande esposizione proprio che viene ricavata da questo lavoro passaggio di testimone a rica passaggio di testimone così a crudo a crudo infatti l'open e science school penso che insomma più o meno un po' tutti ormai diciamo sia entrato nella nella mente di tutti che l'open e science school insieme all'idea è uno dei progetti pilastro di materia 2019 e che significa essere progetto pilastro è diciamo più semplice di quello che si possa pensare in realtà l'open e science school per noi è uno strumento per diciamo facilitare la realizzazione del programma culturale è uno strumento attraverso il quale noi intendiamo realizzare tutte quelle infrastrutture materiali pensate al sistema dei palchi delle scenografie degli allestimenti nello spazio pubblico che potranno servire per realizzare eventi e progetti di materia 2019 detta così diciamo sembra molto riduttivo in realtà è molto di più di questo è proprio diciamo uno spazio un aggregatore di talenti di creatività di esperienze professionali non pensiamo solo ad artisti pensiamo a varie figure professionali e abbiamo fatto già un primo test a settembre e vedo qui tanti amici che insomma insieme a noi hanno proprio lavorato per fare in modo che questa cosa avvenisse è uno spazio che riunirà artisti designer ma anche artigiani noi abbiamo lavorato già in questa prima fase fra settembre e ottobre con un test molto importante con degli artigiani locali vedo qui Luca Colacicco che saluto che è sempre diciamo stato con noi pronto a mettersi in gioco anche lui per aiutarci insomma a migliorare il modello a prescindere dal workshop l'open design school diciamo di fatto ha già diciamo avviato tutta una serie di ragionamenti c'è stata lì l'esperienza fuori salone di Milano molto importante per noi anche quello un test particolarmente significativo abbiamo realizzato una installazione completamente progettata e prodotta qui a Matera che poi abbiamo diciamo portato a Milano sempre con una parte del gruppo di lavoro del workshop continuiamo a diciamo a pensare di continuare a lavorare in questa maniera l'open design school lavora su committenze reali non è un laboratorio di sperimentazione fine a se stesso si fa sperimentazione ma finalizzata alla produzione per produrre diciamo cose tangibili e dispositivi materiali che poi serviranno a Matera 2019 si lavora su committenze committenze sia interne alla fondazione ma anche esterne oltre al sistema dei palchi di cui parlavamo prima gli allestimenti nello spazio pubblico ma anche per esempio tutto un lavoro che lo spazio pubblico richiede cioè la leggibilità della città in che modo la città si può rendere più visibile più leggibile è una cosa insomma su cui ragioneremo con il col comune di Matera ma anche pensiamo diciamo delle committenze su scala regionale c'è un progetto molto bello che c'è nel dossier di candidatura che si chiama Caravan Serrai 2.0 che rimanda proprio ai vecchi Caravan Serragli o le stazioni di posta che dir si voglia che erano in quei luoghi in cui diciamo i popoli nomadi oppure quando ci si spostava con i cavalli ci si fermava per diciamo rifocillarsi e riposarsi però diventavano spazi sociali i nuovi spazi sociali che abbiamo in Basilicata spesso sono le stazioni di servizio che si trovano sulle dorsali principali di collegamento che diventano proprio luoghi di aggregazione in questo diciamo nomadismo e pendolarismo quotidiano che fa sì che la gente si incontri poi nello stesso luogo oppure anche committenze esterne abbiamo per esempio già un contatto e quando diciamo penso che a Torino approfitteremo di questa diciamo di questa presenza della fiera del tartufo di Alba che ha chiesto proprio a Matera 2019 di attivare un laboratorio dell'Open Science School per ripensare il packaging del tartufo che però diventi diciamo portatore di valori della diciamo a scala territoriale quindi è veramente uno scenario molto alto fino senza diciamo parlare delle collaborazioni che si potranno poi attivare con varie aziende che potranno diciamo proporre committenze specifiche su vari temi e non è una scuola come abbiamo detto diverse volte spesso ci chiedono ma ci date un certificato non diamo nessun certificato in realtà è proprio un modo per mettere diciamo in circolo le esperienze migliori cioè mettere insieme le persone con diverse esperienze e fare in modo che si impari l'uno dall'esperienza dell'altro e i workshop funzioneranno sempre per cicli diversi a seconda dell'entità del progetto che si intende sviluppare più o meno diciamo ogni volta riorinano 15-20 partecipanti selezionati sempre per mezzo di call pubblica neanche tu per mezzo di call pubblica su scala europea come è stato fatto già nel corso del primo workshop e funzioneranno sempre come diciamo è stato già testato i gruppi di lavoro diciamo durante la settimana lavorano ricerche che poi vengono verificate diciamo così di volta in volta con una comunità più allargata ogni venerdì con una sorta di open review come l'abbiamo chiamata in modo tale da condividere diciamo con la comunità che strada si sta percorrendo e ricevere anche eventuali diciamo emendamenti o correzioni o contributi per poi invece aprirsi proprio alla comunità durante il fine settimana e fare in modo insomma che gli spazi che andiamo ad attivare sempre lì nel complesso del casale che abbiamo fatto vedere siano proprio a servizio della comunità perché avremo laboratori di produzione che vogliamo mettere proprio a servizio di chi ha bisogno di sperimentare e insomma venire a provare oltre diciamo al gruppo dei partecipanti in realtà diciamo la comunità interessata le ricadute dell'open science school sono molto ampie perché come abbiamo avuto modo già diciamo di verificare in realtà 15 persone sono in grado poi di attivarne almeno 150 così è stato già nel corso del primo workshop perché diciamo i partecipanti non hanno mai lavorato da soli in realtà essi stessi hanno sentito l'esigenza di condividere con altri ancora quello che stavano facendo sia per insegnare quello che man mano imparavano perché è vero che diciamo lavorando insieme si imparano molte cose si hanno spunti sempre interessanti sia per avere un supporto sempre maggiore anche da chi poteva avere un'esperienza e un punto di vista diverso a questo proposito mi piace diciamo che ci sia qui che ci abbia raggiunto Patrizia Di Franco che è la preside del liceo artistico e classico che hanno lavorato con noi Luca l'ho già salutato poi vedevo Pasquale Montemurro del SISRAC si ha le mie spalle non lo so ha le mie spalle proprio a loro insomma vorrei chiedere di raccontarci un po' la loro esperienza in particolare a Pasquale vorrei chiedere in che modo diciamo questo mondo del Fab Lab che è sempre pensato come diciamo un luogo quasi inaccessibile un po' per nerd dove non si sa bene che cosa succeda che uno si spaventa solo pensiero di tutte quelle apparecchiature computer non pensa di poter insomma interagire in qualche maniera in realtà l'interazione c'è stata in maniera anche molto interessante anche con Luca Colacicco quindi vorrei che ci raccontassi proprio l'unione di questi due mondi certo innanzitutto grazie buonasera a tutti l'esperienza con l'Open Design School è stata un'esperienza davvero positiva c'è stata una gran motivazione un approccio davvero forte a questa attività a questa esperienza c'è stato uno scambio tra l'Open Design School e il mondo dei Fab Lab in particolare i laboratori regionali in tutte e due le direzioni l'Open Design School ci ha dato la possibilità di creare una rete i Fab Lab come diceva Rita sono questi luoghi che sembrano pieni di macchine tecnologiche cose strane oggetti per fare strane magie in realtà i Fab Lab sono fatti da una cosa sola le persone e se ci sono persone che lavorano in rete un Fab Lab esiste quando le persone non ci sono non riescono a lavorare in rete non riescono a scambiarsi competenze allora non funziona più niente in questa occasione noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere professionisti che in realtà abbiamo trovato molto più affini e molto più vicini al nostro mondo di quello che ci aspettavamo Luca Colacicco ad esempio è ritenuto un artigiano del legno ma in realtà utilizza macchine a controllo numerico che noi tra l'altro ci sogniamo e che gli invidiamo e che quindi adesso lo andiamo a trovare spessissimo lo disturbiamo parecchio e non solo Luca tutti i professionisti che hanno lavorato e da loro abbiamo imparato non solo a conoscere un mondo quello dell'artigianato classico tra virgolette che a volte viene contrapposto in maniera errata all'artigianato digitale rappresentato da noi ma abbiamo imparato anche una maggior professionalità sono spesso professionisti che hanno un'esperienza più grande della nostra alle spalle da loro abbiamo potuto imparare anche un approccio più sistematico al lavoro noi tendiamo a essere un po' tra virgolette anarchici nell'approccio al lavoro molta fantasia poco metodo e grazie ai tempi ristretti anche che avevamo in quel percorso abbiamo imparato anche un metodo quello che abbiamo pensiamo di aver portato all'open design school innanzitutto ovviamente le nostre competenze ma la chiave soprattutto la possibilità di trasformare tutti quei progetti tutti quei sogni di artisti e ingegneri e architetti che hanno partecipato trasformarli in maniera semplice e veloce in oggetti reali che potessero essere comunicati più facilmente a tutti gli altri e quindi alla comunità di materia e a quella della regione in questo modo tutto è diventato più semplice un osmosi di idee di competenze tra noi all'interno dell'open design school ma anche con chi da fuori si avvicinava per capire e comprendere tutti quei progetti quindi questo è il mio punto di vista grazie vi dico solo per colpa mia mi assumo la responsabilità mi sarei molto più veloci ringrazio tantissimo del contributo vi dico anche che l'open design school a Milano è stato reputato uno degli otti progetti più interessanti dalla principale critica della London Review of Design quindi non è soltanto davvero e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato i 15 che hanno vinto il bando per la prima partecipazione a Giuseppe Grima che ringrazio particolarmente per l'ideazione che è il nostro direttore scientifico dell'open design school e tutte le persone che vi hanno partecipato anche soprattutto i ragazzi delle scuole che ci hanno portato una linfa straordinaria scuole che peraltro ci hanno già seguito in candidatura che saranno grandi protagoniste di tutto il lavoro a venire Patrizia anche raccontaci anche dei successi recenti che in virtù di Matera 2019 perché come vedete in realtà questo ambiente è un ambiente circolare adesso dovremmo a poco a poco dovremmo diventare chiamando tutti quelli che stanno facendo cose più da questa parte che da quella perché non c'è è davvero il senso del noi non c'è qualcuno che parla e qualcuno che ascolta stiamo producendo insieme io tutte le volte mi accorgo di quante cose già stanno accadendo e che rinadisco mancano soltanto di circolarità e di condivisione perché non abbiamo il coraggio la forza forse nemmeno la sincerità di dirci quante cose reciprocamente stiamo facendo quindi questo è il sentimento principale che mi sembra di trarre da questo pomeriggio che vorrei invece diventasse permanente Patrizia a te la parola grazie intanto ringrazio moltissimo tutto lo staff di Matera 2019 per averci coinvolto fin dall'inizio il primo a coinvolgere c'è stato Massimiliano con le bandiere devo dire ed è stata davvero una grande avventura ma poi con Materadio i volontari utopie distopie insomma veramente davvero delle attività molto interessanti nel meito invece dell'Open Design School che è diciamo l'attività una delle più importanti che ci ha coinvolto in questo anno scolastico sicuramente io devo dire che la partecipazione dei ragazzi è stata davvero molto intensa noi abbiamo partecipato i nostri ragazzi naturalmente sia quelli del liceo classico che quelli del liceo artistico hanno partecipato a tre diversi workshop uno con Fedele Congedo sulle mappe visive uno con quello con Paolo Cascone in suo gruppo naturalmente cito diciamo i maggiori i responsabili sulla co-costruzione di strutture e sulla prototipazione e con Mauro Bubico invece sulla definizione del logo dell'Open Design è stata così intensa la partecipazione soprattutto al workshop di co-costruzione di strutture nella città che i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di Piccianello già in quella sede avendo a disposizione un po' di materiale di quello di Colacico hanno chiesto di costruire autonomamente di costruire una struttura da questa struttura poi hanno chiesto hanno chiesto altro si sono un po' si sono allargati e nel abbiamo recentemente realizzato nel liceo in un piccolo atrio del liceo artistico la relational room dove c'erano semplicemente due macchinette per il caffè ci sono adesso una serie di strutture che sono appunto il frutto della collaborazione che questi ragazzi hanno fatto con dei professionisti sentendosi con loro non dico alla pari perché insomma è un po' è un po' troppo però sentendosi partecipi di un processo che li vedeva soggetti attivi la collaborazione non si è fermata qui come diceva Paolo recentemente insomma proprio in questi giorni siamo stati inseriti in una graduatoria di progetti a livello nazionale sono state finanziate solo 31 scuole era un progetto del MIBACT nello specifico della direzione generale arte e architettura contemporanea e periferie siamo stati quindi assegnatari di un finanziamento di 100.000 euro che per una scuola come la nostra è veramente tantissimo ma non saremo da soli nella gestione di questi fondi perché soprattutto noi abbiamo avuto un punteggio altissimo nella partnership e nella nostra partnership c'è Matera la fondazione c'è l'Open Design School c'è l'Enteparco c'è l'università ci sono quei soggetti che già lavorano proprio per portare avanti un percorso culturale che ci vede partecipi c'è il FAI insomma davvero una grande opportunità un'opportunità che vede la scuola perché questo è questo progetto come propulsore di attività culturali all'interno di un quartiere che è un po' periferico ma che si affaccia sulla gravina e che in qualche maniera ritorna quindi all'interno dei sassi quindi noi siamo pronti ad accettare altre sfide e naturalmente io sono sicura che come la nostra scuola tutte le scuole della città e probabilmente anche del territorio lucano sono pronte a farlo grazie voglio ricordare che tra l'altro credo che lo citerà poi il sindaco ovviamente uno dei colpa tua colpa tua uno dei luoghi di trasformazione urbana è il cinema Kennedy che ovviamente è veramente inserito ed è stato pensato come luogo di sperimentazione di forme in quello spazio che deve diventare sostanzialmente un tutt'uno non può essere pensato come un comparto separato avesse progettato assolutamente insieme alla scuola e allargare proprio quell'ambito per farlo diventare uno dei grandi poli culturali della città a venire è stato citato il FAI prima di passare all'esperimento ormai di grande successo e anche di grande notorietà grazie anche a Linea Verde recentemente di Garden Toppia vorrei passare la parola proprio per raccontare l'esperienza del FAI il FAI ci ha fatto un grande onore ci ha detto sono passati 25 anni ha fatto un'iniziativa pilota chiediamo alla fondazione di collaborare con noi per costruire un evento ad hoc allora benvenuta se ci racconti l'appuntamento come è andata intanto preannuncio visto che insomma abbiamo anche qualche esperienza diciamo così europea abbiamo già in possibilità di collegamento da Parigi e gli amici di Unesco giovani che ci racconteranno quello che vogliono fare con noi il prossimo anno perché questo collegamento è strettissimo benvenute a te la parola buonasera a tutti intanto grazie grazie Paolo Veri grazie Fondazione Matera Basilicata 2019 e grazie a tutte le istituzioni di Basilicata e di Matera che hanno consentito al FAI di realizzare quest'anno questo successo incredibile per il 25 annale delle giornate di primavera più di 17.000 visitatori soltanto per Matera e i pochi comuni afferenti alla delegazione di Matera e una raccolta fondi che è decisamente raddoppiata rispetto a tutte le occasioni precedenti abbiamo avuto e mi piace riportarlo proprio i complimenti ufficiali da parte del FAI e sto parlando del Fondo Ambiente Italiano nella sua visione nazionale per questo importante risultato ottenuto a Matera che fa sì che Matera possa diventare addirittura esempio paradigma per altre realtà per altri contesti quindi naturalmente il mio ringraziamento grazie il mio ringraziamento va naturalmente a tutta la città ma in questa sede particolare soprattutto alla fondazione Matera Basilicata 2019 al comune di Matera che sono stati sostanzialmente le due realtà con cui abbiamo dialogato continuativamente e non posso naturalmente dimenticare il polo museale della Basilicata della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata ma è una relazione con le istituzioni che si estende sempre di più e qui invece vorrei un attimo raccontare le ragioni di questa collaborazione che ha portato anche ad una intesa in realtà abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con la fondazione Matera Basilicata che ci vedrà sostanzialmente affiancare tutte le azioni che verranno messe in campo in modo condiviso spero anche oltre il 2019 e quindi un'intesa che ci vedrà protagonisti nazioni comuni che potremo mettere in campo in futuro ovviamente eventi di carattere nazionale perché avremo ancora altre giornate di primavera fino al 2019 avremo la giornata d'autunno avremo impegni anche di carattere territoriale che sarà bello condividere qual è stato il motivo dell'incontro abbiamo pensato quest'anno che fosse importante mettere al centro la città Matera e i sassi i sassi cioè laddove la nasce la città naturalmente erano passati nel 2016 30 anni dalla legge numero 771 per il recupero dei sassi per la restituzione dei sassi alla fruizione collettiva per cui ci era sembrato importante rimettere al centro questa parte della città e raccontarla di nuovo parallelamente a quello che stanno facendo altre realtà dal punto di vista non solo storico cosa della quale insomma mi sono occupata anche personalmente professionalmente ma dal punto di vista antropologico culturale che era il focus poi interessante che sta seguendo anche la fondazione di cui è nato questo incontro una prima conversazione con Paolo Berri in cui chiedevamo tra l'altro di dare vita azione ai sassi cioè al di là del racconto storico farli vivere anche attraverso delle performance di tipo artistico creativo cioè restituire ai luoghi quell'anima che poi li rende vivi e di qui è nata l'idea appunto di non soltanto aprire alcune case private grazie appunto alla collaborazione di tutta la fondazione ma che poi è stata seguita come percorso soprattutto da Massimiliano Burgi e poi anche l'idea di affiancare alle proposte di apertura straordinaria dei siti quella di eventi di carattere artistico performance di tipo artistico che hanno accompagnato queste giornate insomma mi è stato chiesto di parlare molto rapidamente del senso della nostra esperienza penso che sia stato comunque un incontro interessante di successo che sarà bello continuare a cui daremo sicuramente un seguito penso che abbiamo come FAI come Fondo Ambiente Italiano una responsabilità particolare dal punto di vista del volontariato culturale ed è questo quello che vogliamo mettere anche a disposizione della fondazione Matera Basilicata 2019 questo è stato anche un altro dei punti di incontro fin dall'inizio cioè i volontari del FAI per Matera 2019 questo significa sostanzialmente che nelle azioni che la fondazione metterà in campo per il futuro il Fondo Ambiente Italiano attraverso la sua componente dei volontari sarà sempre parte attiva e collaborante e anche attraverso quella che ormai è una presenza e una risorsa importante nella nostra città che è Casanoa anche questo è un altro risultato che mi piace dirvi soltanto nell'ultimo weekend sono insomma più di mille visitatori intorno ai 1500 visitatori credo che sia un numero importante in questo momento e quindi penso che abbiamo una responsabilità dal punto di vista del turismo culturale dal punto di vista della proposta culturale e in generale appunto dal punto di vista del volontariato culturale ecco in una idea in una visione di collaborazione con partecipazione con divisione di quelli che sono i obiettivi futuri della città noi ci siamo e grazie per questo invito qui a rappresentare queste idee grazie a Rosalba grazie a Rosalba Demetro grazie a Francesco De Santis Rossella allora la cosa bella anche di quell'esperienza del FAI è che abbiamo fatto diciamo così che il patrimonio lo fanno gli abitanti e in quel caso il patrimonio dei sassi sta raccontato da chi abita manutiene e cura questo patrimonio che sono gli abitanti dei sassi per questo con Rosalba abbiamo aperto le case noi stiamo insistendo sulla centralità dei sassi scusa un momento se c'è il collegamento con Parigi che a proposito di partecipazione Unesco Giovani ci ha chiesto proprio di raccontare questa esperienza dell'abitante culturale nella loro assemblea di Napoli assemblea nel corso della quale hanno scelto per l'appuntamento del 2018 proprio Matera come luogo di sperimentazione a livello nazionale quindi vedete come tutta la serie di idee di opportunità stanno gemmando e figliando e come questo tema di piattaforma che fa crescere da parte della fondazione è molto importante non so se il collegamento c'è sì se ce lo date con Paolo Petrocelli da Parigi forse o da Fiorella Fiore non so chi ecco Paolo ciao ciao buonasera buonasera a te a te rapidamente la parola sappiamo che sei disponibile fino alle 20 siamo molto di corsa ciao benvenuto ecco a voi vi presento il presidente nazionale di Unesco Giovani credo per una riunione proprio all'Unesco a Parigi benvenuto buonasera a tutti da Unesco Giovani in trasferta a Parigi domani siamo presso l'Unesco per la nostra iniziativa del capitato che dopo due anni ha prodotto in tutto il territorio italiano tante iniziative e tanti progetti qui sono con me oltre a Fiorella Fiore la nostra rappresentante della Bassi di Cata una delegazione di dieci tra i nostri rappresentanti regionali che domani assieme a me presentano appunto i risultati del proprio impegno di questi mesi come Paolo anticipava ci siamo impegnati nel portare tutti i nostri giovani oltre 300 tra ragazzi e ragazze di tutta Italia a Matera nel 2018 crediamo infatti che sia un appuntamento a cui non possiamo mancare quello di Matera apprezziamo tantissimo lo sforzo che tutta la fondazione la città la regione stanno facendo già da anni e crediamo che sia unire le forze con tutti voi quello che vogliamo fare è portare idee portare impegno portare energie che sono assolutamente in linea con quelle che sono le ambizioni assolutamente positive di Matera 2019 noi come UNESCO giovani crediamo che sia arrivato assolutamente il momento di separarci prima linea e con le nostre esperienze le nostre capacità e anche con le nostre speranze dare un contributo assolutamente concreto sui temi del patrimonio dell'educazione della cultura e delle scienze più in generale lo vogliamo fare però in una maniera assolutamente diciamo attuale in un momento in cui siamo ovviamente come pensiamo messi in discussione gran parte dei valori su cui fondiamo i nostri principi i nostri ideali ecco crediamo che probabilmente stia davvero a tutti noi anche delle giovani generazioni di trovermi attraverso cui impegnarsi noi abbiamo creato questa esperienza un'esperienza di volontari che stanno dedicando tempo e energie a portare avanti delle idee nelle scuole nelle università naturali e crediamo che la piattaforma di Matera sia una straordinaria opportunità per diciamo dare ancora più forza a questi nostri messaggi è bello devo dire anche emozionante essere in collegamento da qui vedervi in questo posto straordinario di Casacava da una città che è sempre più simbola da una parte di un'ideale dall'altra di cose non così belle che ogni tanto riaffiorano in maniera così anche violenta noi abbiamo deciso di cogliere questa opportunità che ci ha dato l'unesto di raccontare la nostra esperienza perché crediamo che il nostro progetto rappresenti un unicum a livello internazionale questo ci è stato riconosciuto anche da Parigi trasmetto questo a voi con il desiderio anche appunto di condividere con voi questa notizia che ancora una volta giovani italiani sono stati in grado di creare qualcosa di importante di bello e probabilmente di unico anche a livello internazionale questo lo vogliamo dire anche questa tendenza questo atteggiamento negativo dei nostri che sembra che tutto sia difficile da realizzare non è così e quindi davvero grazie a voi anche per questa opportunità di saluto speriamo di avervi trasmesso un po' anche del nostro entusiasmo della nostra energia da qui grazie Paolo ti aspettiamo nelle prossime settimane che arriva l'applauso di Casa Cava e ti aspettiamo per lavorare insieme con tutti i volontari dell'UNESCO Giovani complimenti per il risultato ottenuto ti aspettiamo salutaci tutti gli amici a presto assolutamente saluti a tutti grazie da volontariato volontariato anche perché il 2018 è l'anno europeo del patrimonio e da Matera si aspettano anche da Bruxelles ci stanno sollecitando a lavorare su questo tema proprio dalla Commissione Europea insistevamo molto sulla questione dei sassi ma in realtà insistevamo sul fatto che si lavora su tutte le città si lavora sul centro dei sassi delle città ma anche si lavora sulle periferie e si lavora anche su tutta la regione anche sui comuni piccoli quindi volevo pure che Massimiliano ci raccontasse questo lavoro insomma a parte che è interessante che come diceva Paolo non riusciamo più a parlare noi soltanto di progetti ma è necessario avere la presenza insomma di chi lavora con noi insomma ed è bellissimo condividere questa avventura praticamente stiamo parlando di Garden Topia che è nata lentamente con balconi fioriti e poi i basi di catafiorita adesso prende il nome che è del progetto del dossier quindi 19 aree 19 giardini di comunità diffusi in tutta la regione quindi un grande giardino diffuso che vanno a recuperare praticamente delle aree abbandonate che sono per lo più aree in zone dei margini nelle periferie fino ad ora ne abbiamo realizzate quattro che sono quelle del giardino dei momenti delle mom quello a potenza il boschetto orizzontale con la will e poi abbiamo fatto il giardino spighe bianche con la scuola Pascoli e proprio in questi giorni si sta realizzando questo altro bellissimo giardino di comunità Agor Agri con Agri Natural però la cosa importante di questo progetto è che attiva tantissimo la comunità e non lo fa diciamo recuperando gli spazi abbandonati con un senso di rivalza proprio anche di accredine nei confronti delle istituzioni ma lo fa insieme tant'è vero che su questo ringrazio fortemente Rossella che si è battuta perché questa dimensione fosse ben precisa nel senso che dei protocolli d'intese sul bene comune vedessero come soggetti i cittadini beneficiari dell'area l'istituzione quindi il comune di materia e di potenza fino adesso e poi la fondazione quindi precisando in maniera chiara chi fa che cosa e questo è stato un presupposto importante per dare avvio diciamo a questi al recupero di queste aree e trasformarli in giardini di comunità vedo vedo Mimì che arriva stanno realizzando in via l'Italia questo grande anfiteatro con le balle di fieno quindi però è un progetto appunto che attraverso la comunità del verde attiva una comunità sociale e per questo si stanno diciamo nel giardino della Pascoli stanno succedendo delle cose incredibili insomma acceso questo fare i bambini stanno vivendo anche la dimensione diciamo didattica in maniera completamente diversa insomma anche le MOM che si trovano uno spazio insomma tanto ambito che diventa insomma un luogo dove avvengono delle cose ma volevo partire da Laura Giannatelli presidente delle MOM alla fine questo spazio è stato realizzato è tutto un divenire ci sono stati 40 ragazzi che sono venuti da tutta Italia da tutta Europa per realizzarlo insieme ai cittadini ma alla fine di chi è questo spazio lo spazio essenzialmente è dei bambini dei bambini che amano il giardino dei momenti ed è un grande orgoglio quando li sentiamo dire che il giardino dei momenti è il loro parco preferito è un parco in cui un giardino in cui i bambini possono giocare con la terra risporcarsi le mani piantando qualche piantina ma anche giocando con dei giochi che sono stati realizzati con materiali poveri e di riciclo e quindi giocano con qualcosa che è inconsueto che non trovano altrove il motivo per cui noi abbiamo fortemente desiderato questo giardino era appunto quello di far ritornare i bambini a giocare sporcandosi e a farli vivere questo momento con magari i nonni che possono insegnarli la cultura dell'agricoltura noi stiamo portando avanti questo giardino con non poche difficoltà ma ampliamo la nostra comunità di mamme con innanzitutto la parrocchia di la parrocchia Sant'Antonio che gravita appunto nel quartiere con i vicini che iniziano timidamente ad avvicinarsi al nostro giardino anche nella manutenzione dello stesso ma anche altre associazioni che cerchiamo di coinvolgere come ad esempio gli scout oppure il sicomoro abbiamo stretto anche con loro una collaborazione cercando di coinvolgere nei lavori nel nostro giardino e insomma nella nostra comunità anche dei ragazzi immigrati quindi no c'è anche ora un progetto che sta suscitando come diceva Paolo tanto interesse adesso saremo a giugno a maggio alla Biennale dello Spazio Pubblico siamo stati invitati dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e quindi porteremo questo racconto che vede 12 comuni della Basilicata insomma gli ordini degli architetti degli ingegneri dell'Università di Basilicata insomma l'Aiap che diciamo è questa associazione italiana sul paesaggio quindi grande attenzione poi saremo in Grecia a raccontare uno spazio dedicato di come cambiano le città e nelle periferie però questo progetto ha una dimensione europea molto forte perché i cittadini vengono guidati attraverso delle resistenze artistiche da artisti architetti che li aiutano a diciamo cambiare diciamo da portare l'idea fino alla realizzazione del giardino e allora per questo è qui Vincenzo Tortorelli della UIL che hanno lavorato con questo gruppo di paesaggisti francesi che cosa è stata come vi ha cambiato questa dimensione europea nel lavoro insomma in uno spazio che era uno spazio degradato di un quartiere popolare di potenza innanzitutto si sente buonasera a tutti ringrazio la fondazione per l'invito e per la possibilità che ci ha dato a tutta l'organizzazione ma credo alla comunità dei cittadini perché Massimiliano il nostro progetto noi lo abbiamo diciamo presentato lo abbiamo strutturato ma nasce da una volontà della comunità di interessarci e farci promotore di questa esperienza all'inizio non immaginavamo che poteva creare questa condizione di connessione tra i cittadini ma soprattutto con gli artisti i Wagon Landskipping artisti francesi premiati dal ministro del Ministero della Cultura francese come i migliori paesaggisti del 2016 e che hanno portato quella passione questa grande attenzione al nostro territorio la cosa che ha impressionato tutti noi gli anziani i giovani come questi artisti hanno approcciato alla idea alla realizzazione la progettazione dello spazio rispettando il luogo l'approccio di sensibilità e anche di come hanno voluto portare alla realizzazione di un luogo rispettando la tradizione la cultura di quel luogo e della nostra regione e hanno fortemente caratterizzato questa esperienza culturale diciamo europea nel rappresentare anche di voler mettere in quel luogo prodotti nostri locali non portare diciamo dalla Francia o da altre esperienze perché loro hanno lavorato in tutto il mondo e credo che l'esperienza lucana sia una delle prime a livello nazionale di questi artisti e poi il grande attaccamento alla nostra terra perché ribadisco abbiamo utilizzato prodotti dalla nostra terra la terra del bosco di calvello il castagno del bosco di calvello la pacciamatura di una cava di un paese vicino a Potenza di Pignola e 300 piante di varie specie alcune autoctone che hanno diciamo reso questi 350 metri quadrati una piccola lenticchia diciamo a Potenza un ponte culturale con Matera e questi artisti diciamo hanno insieme a noi prima progettato la prima residenza e poi realizzato in maniera con grande passione con grande esperienza spero che ritorneranno siamo in contatto perché l'ultimo evento dove abbiamo piantato un ciliegie in fiore con il protocollo di intesa con la scuola busciolana che abbiamo strutturato la consulenza degli artisti è servita per poter scegliere il tipo di piantagione per poi dare la continuità e la progettualità a questo luogo di cultura ma credo che sia un luogo di grande integrazione di esperienze e di sensibilità ok grazie grazie direi che chiudiamo questa sessione siamo andati molto lunghi però ci teniamo dico solo una cosa sulla scuola intanto io però invito a cambiare palco mentre Rossella può invitare Ariane qui con noi e anche già anche Peppi Romagnello tutti e due insieme vai vai Rossella e non mi devi mettere la slide una cosa sulla scuola va detta perché altrimenti andiamo allora il progetto scuola abbiamo visto che la dimensione scolastica è stata in parte attivata con l'Open D6 School in tutti i progetti con cui lavoreremo che lanceremo appunto con Ariane ci sarà il coinvolgimento delle scuole ma poi faremo anche un progetto specifico che partirà il 17 ottobre 2017 che oltre a essere una data simbolica perché è la data in cui abbiamo vinto ma anche perché è la data in cui saremo qua insieme al 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 ministro al ministro al ministro fedeli sì sì ci sarà un evento specifico fatto appunto con il miur qui a Matera 300 ragazzi di migliori più premiati d'Italia saranno a Matera per lanciare il progetto dell'eccellenza della scuola italiana che verrà fatto e quello sarà il kick off di tutto il nostro progetto scuola da qui al 2019 con il ministro fedeli e col vice col sottosegretario di Filippo nel 17 ottobre lanciò questo progetto che si chiama proprio dedicato alle scuole che si chiama Matera 3.019 che è un progetto che io amo molto perché è un progetto che si ispira ad una che si chiama Cats and the Sirens cioè di fatto si dice che cosa se dovesse esserci un se continuiamo a inquinarci come stiamo facendo ora e a un certo punto ci dovesse essere distruggiamo questo pianeta che cosa rimarrà di noi ad un possibile marziano da raccontare la cosa più resistente come hanno è una domanda che sono posti Paolo Fabri e François Bastide qual è la cosa che rimane rimarranno i miti e le leggende perché sono le cose più indistruttibili le cose che che passano i secoli allora il lavoro che faremo con le scuole è proprio quello che faremo con le scuole della Basilicata con le scuole europee sarà proprio quello di lavorare sul tema dei miti delle leggende della terra della nostra terra ma i miti delle leggende odierni e lo faremo appunto in vario modo poi facciamo un'altra cosa velocemente lavorando anche con il progetto di education fatto da Bjork che si chiama Biofilia in cui viene appunto c'è un'interazione tra musica scienza e creatività varia il progetto volontaria 2019 ringrazio appunto il CSV insieme appunto al FAI stiamo facendo anche un lavoro con il CSV per cui nel mese di giugno organizziamo insieme un evento in cui ci confronteremo anche con le altre capitali non te lo posso se no ho capito che però vieni qui Gian Leo Iosca del CSV in cui appunto organizzeremo questo questo convegno invitando mettendo insieme le pratiche delle città italiane capitale della cultura ma anche con le città europee della cultura e poi in realtà non sarà solo un convegno di bla 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 ma poi inizieremo a vedere praticamente che si può fare insieme quindi sia col mondo del volontariato culturale ma anche nel mondo del volontariato sociale vi aspettiamo il 6 e 7 Rossella ha detto tutto quindi è in costruzione di questa iniziativa vi aspetteremo appunto il 6 e 7 giugno grazie grazie a voi grazie molte allora domani come ho detto ci sarà una sessione di 4 ore di lavoro con tutta la scena creativa lucana proprio per costruire diciamo così il 50% del progetto ma ci piaceva dare questa cornice e che tutti non soltanto quelli della scena creativa che domani sono in particolarmente invitati a lavorare con noi per partecipare a una call specifica che darà vita a 24 progetti di co-creazione con una priorità agli operatori locali ma di chiedere a Ariane che ha preso spunto dal lavoro fatto da Bob Palmer e Lucio Argano che il nostro consiglio di amministrazione ha già votato ben un anno fa per cui io dico sempre che purtroppo se oggi potessimo togliere un anno tutte le cose che stiamo dicendo oggi potevamo già farle un anno fa quindi abbiamo perso purtroppo 12 mesi un po' in maniera insensata perché tutte queste cose erano già praticamente pronte non erano per noi però purtroppo per noi con noi già Ariane e Giuseppe che sono veramente fondamentali quindi io do a loro un benvenuto di cuore e passo la parola ad Ariane che ci racconta un po' la tassonomia del dossier quali saranno le modalità di lavoro ovviamente tutti gli approfondimenti li faremo in questa sede domani dalle 15 alle 18 e 30 su questo tema specifico dove la scena lucana della creatività lucana è in particolar modo invitata e sappiamo anche che sarà fortemente presente benvenuta Ariane a te la parola buonasera a tutti devo dire che sono molto emozionata ad essere qui oggi e ringrazio tantissimo per l'accoglienza caldissima che ho ricevuto in queste ultime settimane ho potuto incontrare certi di voi e devo dire che questo mi conforta tantissimo nonostante i tempi brevissimi che abbiamo per attuare i progetti nel sapere che riusciremo ad ottenere ottimi risultati concedetemi anche se la serata sarà un po' lunga una piccola premessa per dirvi che io mi sento estremamente onorata di essere stata scelta e di poter svolgere questo compito non tanto per il titolo ma per sapere che appunto come è scritto il progetto questo verrà fatto assieme a voi quindi questa è una cosa importantissima voglio anche perché io arrivo in questa fase che è oramai operativa quindi si entra proprio nel vivo non solo più della costruzione ma proprio nell'etappe di realizzazione voglio veramente dire scusatemi per il mio italiano un po' francese ogni tanto volevo dedicare un ringraziamento profondissimo a tutti quelli che hanno contribuito a scrivere questo progetto perché se no non saremo qui oggi hanno fatto un lavoro fantastico e devo dire che all'epoca io mi trovavo in vari giri europei in cui si sentiva molto parlare delle candidature delle città in Italia e molto spesso si nei corridoi si diceva un po' di nascosto ma sentivo che la candidatura di Matera era tra virgolette favorita non solo per la bellezza della città non solo per perché era nel sud ma proprio per il progetto estremamente innovativo che portava quindi vi voglio portare questa testimonianza e quindi non solo sono onorata ma mi sento anche molto privilegiata di essere qui a portare avanti questo progetto assieme a voi quindi sono sono proprio felice di saltare nel treno spero di aver colto in pieno lo spirito del dossier perché è proprio da qui che si parte perché a distanza di anni questo è stato deliberato dalla Commissione europea per dare il titolo a Matera e alla Basilicata nel ottobre 2014 e da da allora personalmente io trovo che questo progetto rimane molto innovativo già per il suo aspetto di tutta la parte digitale ma il digitale appunto per tutto quello che può traguardare si può dire nel senso che non è si prepara ovviamente tutto l'anno 2019 che è un anno estremamente capitale ma si prepara anche il futuro perché tutto questo dossier contiene anche nel suo grembo anche tutte le competenze le risorse non solo finanziarie ma anche umane anche di competenze che possono farci arrivare non solo al traguardo preparati a livello europeo ma anche andare oltre e poter stabilizzarlo nel tempo e proseguire quindi sono qui assieme a voi per fare tutto questo cammino la fondazione nella realizzazione di questi progetti di questi 50 progetti ha varie modalità la prima sono progetti che saranno trattati in modo più diretto penso per esempio alla cerimonia di apertura e di riapertura o delle mostre che verranno fatte con gli enti enti più pubblici o eventi che saranno organizzati assieme alle altre capitale europee della cultura poi ci sarà dei bandi di potenziamento sui vari festival per incrementare il livello europeo delle programmazioni ci sarà anche un po' più avanti una parte di patrocinio ma il cuore perché è la parte più importante e anche più lunga perché sarà di co-costruzione e di co-realizzazione e quella dei progetti di questi 24 progetti di cui parlerò domani molto più in dettaglio per tutti gli operatori ovviamente siete tutti invitati anche i curiosi però entreremo molto nei dettagli della realizzazione di questi progetti della modalità per presentarsi questi progetti devo dire devono avere questa dimensione europea arrivando nel 2019 e ho potuto ho avuto la fortuna di seguire da vicino da lontano varie capitali europee della cultura e almeno aver potuto imparare di certi errori magari da non ripetere ogni capitale europea è un po' a sé però questa qui a materia in Basilicata ha la particolarità di essere proprio stata costruita in modo collettivo quindi non commetterò l'errore di altri colleghi di partire dall'Europa per arrivare al locale ma proprio di partire da tutto quello che si trova qui e cioè da che cosa porta Matera e la Basilicata all'Europa prima di parlare da che cosa porta l'Europa a Matera e alla Basilicata perché appunto riconoscendo tutte le forze vive so che questo è il terreno fertile per poter costruire al meglio quindi voglio partire con questo avviso di gara che stiamo presentando poi domani aprirlo dare la priorità appunto alla scena creativa lucana dare la priorità di scelta e dare quella precedenza assoluta su su chi porterà questi progetti e fare assieme a tutti tutti i partecipanti a tutti quelli che saranno portatori di questi progetti fare il cammino verso un'Europa verso il partenariato che al mio avviso sono fondamentali per creare anche partenariato su un più lungo termine garantire anche dei finanziamenti europei o altri quella condivisione di buone pratiche che sono indispensabili per andare oltre il traguardo del 2019 con questo e questo in parallelo di tutti i progetti che saranno quelli del dossier dei 50 abbiamo vari tutto un programma di build up o di capacity building oppure in italiano di un progetto che permetterà di portare tutte le competenze utili a raggiungere il il traguardo e la realizzazione dei progetti con varie modalità lì daremo spazio ai più giovani per una serie di non direi formazione ma proprio di avvicinamento alla gestione di progetti alla produzione alla coproduzione e al potenziamento anche dell'audience development cioè della cura del pubblico dei progetti collettivo partecipativo questo perché saranno loro che uno aiuteranno in questo momento nella realizzazione dei progetti perché saremo in tanti a fare tanti progetti non sarà la fondazione ancora meno io da sola a portare tutto questo quindi saranno anche loro ad affiancare tutti quelli che già portano i progetti e poi a proseguire anche nel futuro oltre a questo ci sono almeno per questi 24 progetti un progetto di capacity building proprio dedicato che cosa manca? un potenziamento a livello di reti europee un potenziamento a livello artistico un potenziamento a livello di gestione un potenziamento sarà veramente cucito su misura in modo tale di poter andare il più spedito e efficace possibile verso la realizzazione del 2019 spero l'avete capito io ho voglia di essere molto molto operativa e forse c'è ancora un'ultima no allora era quello di l'unica cosa che vorrei aggiungere è che anche perché questo è un problema che si è ritrovato in tanti ecco questo in tante capitale europee della cultura dal 2017 dal 2017 da quest'anno da adesso da domani da oggi si parte abbiamo già avuto tante testimonianze di cose che sono già andate avanti e ci sarà tutta una serie di test e di eventi proprio di preparazione di coinvolgimento ma anche di perché questa capitale europea è proprio un cambiamento di scale e di ritmo per tutti quanti quindi ci dobbiamo proprio non solo allenare ma anche essere pronti a sostenere questo ritmo in quella dimensione quindi questa è la fase di avviamento il 19 sarà effettivamente siamo capitale sarà proprio tutti gli eventi un'effervescenza grandi piccoli di tutti i livelli coinvolgendo tutti perché ci sarà un posto per tutti questo 19 non lo vogliamo come un fuoco di palio un grande festival che è spesso quello che succede poi quando si spengono le luce e rimane tutto così ma lo vogliamo effettivamente come un grande momento di festa ma anche un'ottima opportunità per poter proseguire e garantire la legacy lo diceva il direttore prima abbiamo abbiamo anche delle risorse dedicate per questo e questo programma di capacity building potrà portare anche a questo traquarto grazie a tutti a domani grazie grazie a Darian domani approfondiremo tutto questo tema cominciando a lavorare noi saltiamo tutta la serie di passaggi perché siamo in grande e colpevole ritardo non so se abbiamo un collegamento con Plodviv e con i nostri gemelli se c'è lo vedremo io vorrei soltanto passare la palla a Pepe Romagnelo con un passaggio che vorrei fare con Mariano Schiavone che invito qui con noi che ringrazio per la pazienza diciamo di essere stato al nostro fianco questa sera innanzitutto credo che dobbiamo far avvicinare molto turismo e cultura il turismo culturale vale il 33% del mercato mondiale i risultati che si sono ottenuti in questi anni in questo territorio sono assolutamente straordinari sapete che abbiamo insomma ricevuto insomma questo titolo di essere la città culturale con la maggior crescita negli ultimi sette anni credo che non sia un caso che questa crescita sia avvenuta in contemporanea alla candidatura stiamo lavorando insieme con la PT Basilicata per una serie di accordi a livello nazionale e internazionale a partire dal sistema degli aeroporti di Puglia per passare per la città di Milano con cui si è iscritta una collaborazione già strettissima per essere presenti con un intero padiglione a noi dedicato a TTG Rimini dal 15 al 18 ottobre 2017 benvenuto a Mariano veramente una battuta per dirci a che punto è il piano strategico e come vedi questa stretta connessione fra turismo e cultura nell'offerta abbiamo sentito tra l'altro non soltanto di dimensione diciamo così cittadina ma sempre più di dimensione regionale benvenuto grazie buonasera ovviamente turismo e cultura sono elementi importanti strategici sono l'asse portante diciamo di tutto ciò che le politiche regionali in questi in questi anni hanno messo in campo e stanno mettendo in campo io più che annoiarvi con le cifre con quello che è avvenuto nell'ultimo anno in Basilicata e quindi in particolare anche a Matera per dire che abbiamo avuto oltre 2 milioni 300 mila presenze 755 mila arrivi è cresciuto del 16 oltre per cento il dato e così via e quindi la stessa città di Matera ha avuto un incremento e una crescita esponenziale e in questi mesi registriamo un trend positivo dal punto di vista delle presenze e degli arrivi quindi sono tutti elementi positivi che ci incoraggiano a fare meglio e a fare di più che cosa stiamo facendo con la fondazione io mi limiterò brevemente ad elengare alcuni aspetti importanti le azioni più importanti che abbiamo messo in campo insieme appunto Paolo Verri lo ha citato primo le accordi con il comune di Milano per attivare operazioni importanti di visibilità nella città di Milano da parte della regione Basilicata e quindi di Matera e Milano verrà qui a Matera a proporre e attivare produzioni di carattere culturale abbiamo già consumato un'esperienza positiva con la presentazione del presepe durante il periodo di Natale a Milano dove abbiamo avuto un successo incredibile oltre 135 mila visitatori che hanno avuto modo di visitare il presepe e quindi di far vedere di raccontare che cos'è in Matera che cos'è la Basilicata quindi una visibilità di carattere direi straordinaria gli aeroporti di Puglia siamo in dirittura d'arriva stiamo definendo l'accordo con l'aeroporti di Puglia insieme alla fondazione dove avremo un punto informativo importante dove racconteremo la Basilicata racconteremo Matera ma non sarà solo questo ci saranno spazi promo pubblicitari grandi video sulla Basilicata sulle produzioni cinematografiche non solo uno spazio dedicato al food e non solo insieme al Dipartimento Agricoltura stiamo mettendo in piede anche quest'altra iniziativa dove racconteremo attraverso i prodotti dell'agno gastronometrio i prodotti dell'agricoltura racconteremo il territorio racconteremo Matera racconteremo la Basilicata quindi questi sono gli elementi più importanti a questo c'è una grande partecipazione che ci vede insieme alla fondazione della Milanesiana un evento culturale di portata internazionale che si svolge ogni anno a Milano dove con un personaggio importante illustre conosciuto in quasi tutto il mondo direi che racconterà la sua Matera lui è stato qui in maniera riservata noi lo abbiamo ospitato qui non ha voluto incontrare nessuno perché ha voluto vivere da solo questa esperienza di Matera e in questa occasione racconterà la sua Matera lui ha fatto un documento importante che oltre a delle tavole grafiche ma descrittive racconterà la mia Matera quindi elemento forte e importante che accresce la visibilità di carattere internazionale direi di carattere mondiale dato l'elevatura del personaggio accordi con la presidenza del Consiglio dei Ministri per la comunicazione istituzionale non solito e con la RAI dove il dottor Manti in particolare ne sta curando tutti gli aspetti di carattere attuativo e oltre poi ha delegato e demanderà all'APT e quindi insieme alla fondazione la parte attuativa dove ci vedranno presenti in tutta una serie di operazioni importanti di comunicazione di carattere istituzionale che la RAI metterà in campo quindi è un percorso che stiamo condividendo insieme altra operazione importante con la quale ovviamente cercheremo di mutuare questa esperienza positiva che è il design che a breve si è consumato è un'operazione importante quella che faremo una mostra sull'artigianato e del design in base legata per mettere insieme per stimolare le nuove professionali per sviluppare i giovani a cimentarsi in questo importante settore è un percorso che ci accompagnerà la fondazione insieme alla fondazione e l'associazione di cateria con partigianato con agricoltura i vari soggetti che metteranno in campo le proprie professionalità che insieme a noi attueranno questo tipo di iniziative a questo si aggiunge un'importante operazione che io ho già preannunciato quando ho presentato il piano delle attività molti di voi erano lì presenti che è l'operazione dell'open space uno spazio importante che stiamo definendo gli ultimi aspetti amministrativi con la presidenza della provincia di Matera per avere la disponibilità degli spazi dell'ex mediateca che metteremo a disposizione non solo per una visibilità di carattere nazionale e oltre dell'intera Basilicata quindi dove racconteremo i 130 comuni della Basilicata ma anche uno spazio di cultura un luogo di produzione culturale che insieme alla fondazione faremo tantissime altre iniziative che concorreranno a rendere visibile e a crescere questo elemento forte e importante che è Matera capitale capitale della cultura a questo si aggiungono tutta una serie di eventi di workshop nazionali internazionali che ci vedranno presenti insieme io vi elenco brevemente le città nelle quali insieme alla fondazione condivideremo questo cammino che sarà Siena Verona Rimini Londra Milano ancora Berlino Napoli Milano ancora Roma nell'isola tiberina l'isola del cinema che durante l'estate è un'iniziativa importante insieme alla film commission insieme alla fondazione ci vedranno lì in quel luogo a raccontare alla Basilicata a raccontare non solo le produzioni cinematografiche quindi attraverso il cinema come raccontiamo il territorio ma tutto ciò che avviene tutto ciò che si sta facendo nella nostra regione cosa sta facendo Matera per arrivare al 2019 così lo faremo in altri luoghi in Svezia a Stoccolma è lo stesso la nostra stessa presenza del presepe che sarà probabilmente ospite in un'altra città di grande rilievo di grande importanza culturale che vi posso anche anticipare però voglio dire non lo date per certo perché stiamo definendo questo pezzo è con la città di Firenze dove probabilmente ospiteremo il presepe della città di Matera a Firenze in uno dei luoghi più straordinari più belli e di una grande produzione culturale quindi tutto questo ovviamente non potrà che accrescere e rendere più visibile la nostra regione bene a questo posso dire poi e poi e poi tantissime altre cose che faremo insieme per accrescere sempre di più e condividere questo percorso e quindi di accompagnare l'agenzia di promozione territoriale a questo processo che è il 2019 che va anche oltre il 2019 grazie grazie Mariano colgo l'agenzia per ringraziare anche pari delle Polacce con il quale facciamo un sacco di attività insieme per ricordare a tutti che la prossima settimana il 4 e il 5 si terrà qui il primo appuntamento di Art Lab 2017 in collaborazione anche con la regione Puglia si svolge la prima giornata a Taranto la seconda giornata a Matera parleremo proprio anche di Cine e Turismo con Pari delle Polacce sempre con Pari le organizziamo nel corso del Salone del Libro che ci vedrà ospiti d'onore dal 18 al 22 maggio domani c'è la conferenza stampa di presentazione a Torino ci sarà una mostra che recupera parte della mostra citata da Marta Raguzzino su Pasolini nel 2014 sarà parte integrante del nostro stand di ingresso e poi il Vangelo secondo Matteo sarà trasmesso gratuitamente al Museo del Cinema di Torino sabato 20 maggio con un grande altro appuntamento realizzato sempre insieme alla Film Commission i dati li conoscete sono veramente molto importanti domani approfondiremo con Raffaella Pontrandolfi e gli amici del Web Team alcuni temi di rilancio della comunicazione voglio soltanto dire che questi risultati quelli che abbiamo ottenuto in questi anni non hanno avuto minimamente l'impatto che da risorse come quelle che potremo avere nei prossimi tre anni perché intenderemo investire complessivamente in collaborazione appunto con la Presidenza del Consiglio Ministri e con il Mibact che ci dà risorse ad hoc circa 6 milioni e mezzo di euro in comunicazione la maggior parte di quelli di quest'anno circa 600 mila euro in comunicazione turistica 2 milioni 200 mila euro nel 2018 per la preparazione proprio dell'appuntamento e circa un milione di euro ogni trimestre per il mantenimento dell'attenzione sulla capitale diciamo così nel 2019 tutte queste cose saranno condivise a livello di web team ci sarà verrà rilanciata a partire da domani questo supporto in open data che si chiama Matera Basilicata Event che ha già avuto già un risultato straordinario in fase di candidatura dove tutti voi potete mettere i vostri appuntamenti potete mettere le vostre schede e potete anche offrire i vostri eventi perché vengano realizzati da altre parti che non a Matera e in Basilicata è un progetto realizzato in collaborazione con il comune che va a sostituire il sito attualmente installato sul sito del comune lo rende fruibile in italiano e in inglese e tutti lo potranno prendere in open data per fare dei propri sottoprodotti quindi il circuito turistico potrà prenderlo per fare delle attività specifiche chi vorrà utilizzarlo per farne analisi scientifico culturale potrà farlo e così via non abbiamo il tempo oggi ci vorrebbe troppo ma domani facciamo una presentazione dettagliata e sicuramente diventerà uno degli strumenti principali per il 2019 in queste iniziative non possono mancare i privati prevediamo 19 partner il ministro Franceschini ci ha dato una data per la seconda metà di maggio che dovrebbe essere fra il 23 il 27 maggio a Roma per presentare il progetto degli sponsor ai partner privati vorrei invitare due amici cioè Pietro Di Leo e il direttore della Col diretti Manzari qui con noi perché stiamo immaginando una serie di iniziative di Pietro credo che ci sia anche un filmato di tre minuti che racconta che cosa abbiamo fatto con lui in candidatura in questi giorni grazie all'arrivo di Giuseppe Romagniello abbiamo messo a punto il bando per gli sponsor e abbiamo accomodati siamo d'accordo con il ministero in particolare con il capo di gabinetto il professor D'Andrea di avere un parere definitivo sul logo che non vogliamo assolutamente mettere sotto il tappetino e dimenticarcelo c'è stata una richiesta da parte del consiglio comunale di capire se questo logo sia commercialmente utilizzabile possa continuare a essere utilizzato o meno ci verrà dato un parere ufficiale dall'ufficio legislativo del ministero dopo il quale scioglieremo la riserva sull'utilizzo o meno benvenuto a Pietro Di Leo se possiamo mandare facciamo vedere subito il filmato facciamo vedere subito il filmato introduco per guadagnare tempo anche gli amici della col diretti che domani faranno un sopralluogo con noi molto dettagliato per cominciare a lavorare proprio sul territorio come vedete le iniziative sono tutte proprio in itinere e in forte progresso prego il filmato se può partire ma voi lo sapete che vuol dire capitale che vuol dire europea e che vuol dire della cultura che vuol dire cultura questo progetto nasce da un'esigenza molto importante per noi aziende oggi nella nostra azienda si parla sempre quotidianamente di innovazione tecnologica secondo me oggi noi dovremmo cominciare a parlare di sì innovazione tecnologica ma soprattutto di innovazione culturale in quest'ottica che ci siamo legati al percorso della candidatura della città di Matera capitale della cultura 2019 molti dei temi di quello che era appunto il progetto Matera 2019 si avvicinavano molto a quelli che sono i temi e i valori della Di Leo abbiamo fatto tante attività tra cui quella la più bella la più esaltante del progetto Nelle scuole porta la tua scuola nel 2019 raccontando il buono di Matera io vivo in Lucania vengo dalla Lucania per chi non la conosce o non l'ha ancora visitata è nata una bella collaborazione con il mondo delle scuole abbiamo realizzato questo bellissimo concorso perché pensiamo che il futuro è nelle mani dei giovani e i giovani devono cominciare già da oggi a respirare anche questa innovazione culturale e vorrei anche chiamare le associazioni culturali che verranno abbinate alle classi per lavorare e produrre con noi una grande mostra che faremo vedere a tutta Europa dal 19 settembre al 31 ottobre ciascuna scuola abbiamo affiancato un'associazione culturale del territorio esperta in una particolare materia e quindi chi aveva vinto per un racconto ha avuto la possibilità di poter incrementare quelle che sono le conoscenze di poter migliorare quello che è il proprio progetto con un esperto di scrittura creativa il percorso di candidatura di Matera capitale della cultura europea si arricchisce infatti di un nuovo tassello il 19 settembre scorso negli spazi dell'ex ospedale San Rocco l'inaugurazione della mostra racconta il buono di Matera 2019 la collettiva di opere delle scuole della Basilicata che hanno partecipato al concorso porta la tua scuola nel 2019 in collaborazione con il biscottificio di Leo e il comitato Cresco abbiamo venuto a fiancare alle classi altrettante associazioni culturali e artistiche del nostro territorio perché per dare proprio un supporto di know-how e un supporto tecnologico a dire che i risultati sono stati veramente stepposi a Matera capitale europea della cultura 2019 si chiude domani il lungo viaggio del ministero dell'istruzione attraverso l'Italia per far conoscere il documento la buona scuola al paese il ministro Giannini è venuto a parlarci della buona scuola noi abbiamo dimostrato che con questo progetto nelle scuole qui da noi in Basilicata la buona scuola è già cominciata se l'imprenditore italiano dà un suo contributo anche significativo per installare un monumento mi dite per quale ragione lo stesso imprenditore non dovrebbe occuparsi della scuola del suo quartiere? abbiamo fatto un bellissimo concorso e cominciato in modemaggio in piazza San Pietro Gavioso è nata una bella collaborazione con il mondo delle scuole abbiamo realizzato questo bellissimo concorso perché pensiamo che il futuro è nelle mani dei giovani e i giovani devono cominciare già da oggi a respirare anche questa innovazione culturale i ragazzi ci hanno insegnato una grande cosa il fatto di essere di stare insieme e quando i ragazzi sono insieme producono veramente delle eccellenze la collaborazione tra il pubblico e privato non solo è possibile ma ospitabile il nostro partner privato è perché ci ha consentito di lavorare con tutte le scuole della Basilicata lui aveva scelto il tema del buono e ci ha regalato 200 mila euro di pubblicità su solo 24 euro nazionali che erano i suoi lui poteva fare la pubblicità del suo prodotto e della sua azienda per fare la comunicazione perché volevamo lavorare con le scuole infine a novembre il 17 novembre abbiamo premiato le quattro scuole i quattro progetti più interessanti alla presenza del ministro Franceschini con una festa in piazza a Matera donando loro quattro lavagne multimediali ti chiamerei anche Pietro Di Leo e gli farei un bello applauso la cultura deve essere deve avere un supporto tecnologico e dobbiamo essere comunque a passo con i tempi perché per vincere le sfide future abbiamo bisogno della nuova tecnologia ci siamo chiesti quale fosse il miglior collegamento tra passato e presente e secondo noi il miglior trasmettitore è la tecnologia perciò ci siamo serviti di quel codice scrittati alle quattro classi vincitrici sono state regalate quattro lavagne interattive multimediali perché pensiamo che anche la scuola debba essere a passo con l'innovazione tecnologica oggi viviamo nel mondo del web nel mondo delle app e quindi anche i ragazzi hanno necessità di aumentare quel loro bagaglio culturale con le nuove tecnologie quindi un grande applauso perché abbiamo vinto tutti ha vinto la città di Matera ha vinto la Basilicata mille ragazzi con noi il 9 maggio una straordinaria mostra e poi credo che lavoreremo per il secondo appuntamento di Porta Toscana 2019 che lanceremo a gennaio a gennaio a gennaio a gennaio a gennaio due minuti soltanto per dire che beh forse questo è stato più bello il filmato che non le parole data l'ora per dire che questo è quello che abbiamo fatto e questo è quello che ci consentirà tutti quanti noi tutto il nostro territorio tutta la nostra città a proiettarci in quella Matera 2019 in cui evidentemente sposteremo quello che di tanto importante si è fatto su questo territorio per l'investimento sulla cultura così come abbiamo sentito nel sul nostro nel nostro nel filmato voglio soltanto aggiungere che tutto questo è stato possibile perché perché da parte di alcuni noi imprenditori abbiamo una grande convinzione la convinzione che la nostra competitività cioè quella delle nostre aziende è direttamente proporzionale secondo me secondo noi a quella del proprio territorio se abbiamo un territorio così forte culturalmente parlando e non solo sicuramente le nostre aziende saranno altrettanto forti e sicuramente il nostro territorio farà fungerà da trampolini di lancio per conquistare quelle sfide del nostro futuro che ci attendono che ci attendono veramente con tanta ansia mi è piaciuta molto soltanto e chiudo Paolo la tua battuta iniziale il tuo payoff iniziale che non mattoni ma neuroni bene noi vorremmo che soltanto un appello alle istituzioni dessero qualcosa a quelle aziende che vogliono non soltanto mattoni ma dare al proprio territorio i propri neuroni grazie grazie Pietro per tutta la collaborazione porto il saluto di Pasquale Orrusso che aveva un altro appuntamento e che però come presidente Confindustria ci assicura di lavorare con lui per fare un tour per tutte le Confindustria perché noi abbiamo immaginato che dei 19 partner per il 2019 almeno la metà cioè 9 che è un po' meno della metà in realtà voglio essere bastonato sulla matematica lo so che è un po' meno della metà ma diciamo simbolicamente almeno la metà siano i nostri territori ecco perché abbiamo messo una quota anche bassa e accessibile di 50.000 euro l'anno pur di avere 9 partner che rappresentino tutti quei valori che ho espresso all'inizio in questa impresa non può mancare Coldiretti che per me è stata una straordinaria partner di un'avventura meravigliosa che è stata Expo Milano 2015 ringrazio molto Francesco Manzari di essere qui Pier Giorgio IV è una riunione a Roma proprio importante però domani si porterà anche il direttore della fondazione Campagna Amica per lavorare con noi su che cosa Francesco a te la parola e benvenuto innanzitutto grazie a te Paolo per questo invito e porto i saluti del presidente Quarto che effettivamente è a Roma noi siamo consapevoli di quello che possiamo dare per materia 2019 perché lo abbiamo dato qualche anno fa a Expo Milano è stata un'avventura bellissima dove la vogliamo trasmigare in questo territorio tenuto presente che non saranno i sei mesi di Expo ma sarà un anno o è un anno che arriverà anche al 2019 come diceva Pietro e per questo ci candidiamo a essere partner domani visiteremo i luoghi visiteremo parleremo anche con te con la segreteria generale proprio per essere protagonisti e mettere in palio in campo i nostri neuroni noi però voglio 60 secondi sarò veramente breve ho letto prima che l'area test 2017-2019 come Coldiretti noi già ci stiamo provando con delle iniziative che stiamo facendo con Pietro Di Leo perché colgo l'opportunità di questa platea per dire che il connubio Coldiretti Di Leo non nasce a caso noi dobbiamo dire grazie a Pietro perché ha accettato la sfida che gli ha proposto Coldiretti di far nascere il primo boiscotto tutto italiano dove si coltiva a Matera ma non soltanto perché viene coltivato a Matera ma perché il seme messo su Matera nasce da una società che gestisce Coldiretti in Emilia Romagna che è la SIS ProSeme per cui tra qualche mese in questo contesto di crisi c'era Ricolo un imprenditore materano ha accettato una sfida di innovazione protesa alle nuove generazioni protesa alla tracciabilità protesa al MED quindi questa è l'importanza del protagonismo noi in quest'area test siamo protagonisti domenica prossima avremo per la prima volta su Matera e ringrazio il sindaco di averci concesso questa opportunità perché generalmente la Sagra della Fragola veniva nel metà puntino ma vendere i gelati al Polo Nord diciamo che non è così è di consuetudine per cui faremo su Matera nei Sassi fragolosa questo evento che mi auguro possa diventare possa essere catalizzatore anche negli anni futuri un altro appuntamento importante che Coldiretti ha già prefissato come area test è il 20 giugno quando sarà l'ex procuratore Giancarlo Caselli attuale presidente dell'osservatorio della legalità di Coldiretti qui a Matera dove parleremo con il tema che la sicurezza alimentare è un diritto di tutta la società per cui noi siamo già pronti a essere partner e protagonisti di Matera 2019 grazie a te Paolo andiamo finalmente a chiudere perché vi abbiamo veramente segregati non vorrei fare la fine diciamo così di quel personaggio che ha occupato lo spazio di un disabile e giustamente è stato incarcerato per quattro mesi diciamo così visto che era definito una sentenza recente se avete sentito la persona per quattro ore ha occupato lo spazio fisico di un disabile e il disabile ha fatto causa proprio per seguito di persona ed è stato ha vinto la causa dicevo prima e l'ho sempre detto con molta sincerità io dovrei occuparmi in realtà praticamente solo di libri che è l'unica cosa che mi piace e che so fare poi nel corso della mia storia mi sono occupato soprattutto di eventi ma ho avuto la fortuna di sempre avere al mio fianco persone molto brave molto competenti che mi aiutavano in creative burocracy a fare una buona amministrazione ringrazio per Rossella Tarantino per aver supplito duramente nei primi tre anni di lavoro su questa partita anche in collaborazione proprio con Egliomanti con Lignana Santoro e con tutto il team importante della regione Basilicata finalmente però abbiamo un direttore amministrativo come il Fò e quindi gli do la parola per dirci come ci organizzeremo per gestire al meglio le risorse e anche i rapporti con il territorio perché non è mai facile poi diciamo così da occuparsi di trasferimento di risorse pubbliche e diciamo così di redattivo utilizzo intanto invito proprio già Eglio e Liliana a accomodarsi qui con noi perché passerò immediatamente a loro poi la palla a te Giuseppe ancora benvenuto nel team di Matera 2019 grazie Paolo poi c'è un segreto e qui c'è scusate la dico prima c'è tutta una una lobby dei jazzisti Nicoletti Romagnello c'è tutto un team Paternost c'è tutto un gruppo diciamo così di appassionati di jazz che ci mette una musica di sottofondo per anche Manti non lo sapevo che fosse jazzista segreto di Manti non lo sapevo di Romagnello e Nicoletti si narra ancora di performance in giro per l'Europa Romagnello però stavolta niente musica e molti fatti vai allora avevo un ruolo ingrato di chiudere una riflessione sull'amministrazione e quindi sulle modalità di gestione dei flussi finanziari collegati all'attuazione del dossier avevo due strade per da percorrere una tipicamente burocratica che era quella di riempire di numeri e di commi e di riferimenti legislativi la sala ma non mi sembrava il caso questa sera allora ho preferito con una slide provare a raccontare i principi ispiratori in qualche maniera gli impegni che intendiamo prendere e che stiamo perseguendo già da qualche settimana e da qualche mese sostanzialmente la volontà è quella di rafforzare il capitale di fiducia che abbiamo ereditato quando ho visto Seven Hours quella slide fantastica lì è proprio una come dire una presentazione icastica della fiducia dell'autorevolezza del progetto della capacità di coinvolgimento quando poi si torna sulla terra e si va sulle procedure occorre confermare quello slancio spiegando il perché di alcune scelte sostanzialmente io lavorerò e proporrò una riflessione basata su quelle che sono state le criticità che più di qualcuno ha voluto esprimere nei confronti dell'azione della fondazione che abbiamo prontamente raccolto perché è nel dialogo che si costruisce una prospettiva di collaborazione innanzitutto la trasparenza che è di fatti in sé un adempimento amministrativo ossia la costruzione di una sezione del sito istituzionale dedicata all'informazione pubblica noi stiamo abbiamo già risolto una serie di criticità che sono state evidenziate dalla corretta pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi alla pubblicazione dei verbali delle decisioni e delle delibere del consiglio di amministrazione fra qualche giorno pubblicheremo i pagamenti quindi è la parte delle collaborazioni insomma stiamo lavorando su quello ma se dovessi dire che quello è l'obiettivo sarei un po' pigro quantomeno poco in linea con la visione con la forza e la passione che io percepisco in questa sala e che vi tiene qui anche a quest'ora di fatti la trasparenza è un modo per consentire la costruzione di una narrazione coerente un accesso semplice ai dati un accesso anche riproducibile insomma è un modo per dire che si fa bene ad avere fiducia della fondazione e noi così stiamo costruendo questa sezione del sito la seconda parola chiave è la condivisione che è fra i valori del dossier stesso che è a mio giudizio un qualcosa in più della mera concertazione alla quale ci siamo abituati con la quale chi lavora nel pubblico ha lavorato nel pubblico come me fa i conti quotidianamente dico condivisione perché la concertazione è ok voglio fare una cosa ti racconto quello che voglio fare dammi alcuni suggerimenti qualcuno li raccolgo altri no a mio giudizio la condivisione invece la possibilità di costruire assieme delle azioni lo diceva benissimo Arianna quando parlava di cocreazione noi oggi in consiglio di amministrazione abbiamo lavorato all'avvio di un processo di cocreazione di coprogettazione che naturalmente tiene ben distinti il lato del realizzatore dell'attuatore che viene selezionato con procedura pubblica eccetera il lato del finanziatore controllore che è la fondazione ma a sua volta poi sono i soggetti che partecipano al consiglio di amministrazione che quindi dotano la fondazione di risorse allora questo processo deve essere quanto più rigoroso ma allo stesso tempo quanto più condiviso perché è su quello che si costruisce un'azione di responsabilità reciproca nessuno delega nessuno se nessuna delle parti ha dimostrato capacità autorevolezza e io direi managerialità quindi capacità di gestire le risorse e di rispondere agli standard che un progetto così ambizioso ci chiede la terza parola chiama è il monitoraggio civico aggiungo civico perché uno dei difetti della relazione fra controllore e controllato è la bionivocità della relazione ok io faccio benissimo questa cosa tu mi controlli e mi dici che ok nessuno lo sa e invece noi vogliamo provare a dire che lo sappiano tutti costruendo indicatori semplici proprio sull'attuazione dei progetti una delle cose di cui abbiamo discusso in questi giorni è come costruire una come dire una cornice di 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 narrazione sull'attuazione dei progetti che consente a qualsiasi cittadino di dire se una linea di intervento del dossier sta è in attuazione oppure no in che misura lo stiamo facendo con grande collaborazione con con gli uffici regionali con gli uffici della dottoressa Santoro che ci sta guidando passo passo proprio per tradurre questa vivacità questa creatività questa capacità di questa platea di questo partenariato tradurlo in una serie di indicatori specifici che ci possano consentire di raccontare alla città e alla regione all'Europa insomma tutti coloro che ci controllano ci osservano comunque sono interessati alla nostra azione a che punto siamo quarta parola chiave è la responsabilità la responsabilità si porta presso una 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 visione di abilità che già ho citato prima sia una capacità di di essere abili a fare le cose per cui ci candidiamo lo noterete già da domani oggi abbiamo lavorato con molto rigore in consiglio di amministrazione alla definizione dei criteri di accesso dei project leader ma la stessa maniera dei criteri di accesso alle misure di attuazione del del dossier il criterio di selezione in sé è una è un'azione di garantizia che nessuno come dire si senta leso dalla impossibilità di accedere a delle risorse ma al massimo partecipe ai processi di 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 empowerment di costruzione e di sostegno che stiamo immaginando perché ciò che non c'è oggi ci potrà essere fra sei mesi quindi è un processo di affiancamento dove controllore è controllato oppure finanziatore attuatore se vogliamo usare una una definizione un po' meno rigida trovano le modalità per fidarsi uno dell'altro e infine organizzazione sull'organizzazione abbiamo molto lavorato in queste settimane a cominciare dalla definizione della pianta organica dalla definizione del fabbisogno di collaborazione di assunzioni che andremo a fare nel 2017 dalla definizione di un funzionigramma quindi chi fa cosa all'interno dell'organizzazione abbiamo fatto nel primo consiglio di amministrazione a cui ho preso parte che era il 27 marzo definendo un piano di assunzioni di 12 unità naturalmente cosa che avverrà con selezioni pubbliche durante il 2017 cosa che ci porrà alcune difficoltà in termini organizzativi logistici di spazio però noi abbiamo bisogno di questo perché abbiamo bisogno di fare il salto di dimensione dobbiamo cominciare a pensare a un ufficio organizzato per specifici punti di responsabilità laddove c'è la responsabilità c'è la capacità anche di chiedere conto quindi c'è l'accountability quindi la necessità di chiedere conto e la necessità di valutare la qualità della nostra azione quindi è stato un bel mese questo in cui abbiamo cominciato a dirci le cose che potevamo fare grazie a tutti grazie molte sentite dalle parole la qualità diciamo a cui andremo incontro chiedo ad Ariane e a Giuseppe di prendere posto gli invito subito e mi scuso anzi per averli fatti aspettare fino a quest'ora il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco solo il Sindaco Angelo non vuoi sederti con noi in Piemonte si dice ti hai arina in tavola ci sono già sì che si dice hai già i due i due spaghettini in tavola pronti no non ancora e do subito la parola a Eliomanti e a Liliana Santoro per raccontarci come la regione sta contribuendo a questo processo importante diciamo così di linee guida di sostegno alla fondazione sì saremmo sarò molto breve tutto gran parte delle cose che facciamo insieme sono state dette forse vorrei focalizzare un po' il mio approfondimento su due questioni noi in regione lavoriamo su due ambiti che ci sembrano dentro il grande schema Matera 2019 che ci sembrano di grande interesse da un lato cerchiamo di creare le condizioni abilitanti le condizioni abilitanti perché accada tutto questo che voi state oggi raccontando e che noi riusciamo a intercettare risorse della programmazione comunitaria nazionale riconfigurarle dentro uno schema strategico regionale renderle disponibili al comune e alla fondazione perché tutte le cose appunto si possano effettivamente fare questo esercizio che facciamo come programmazione regionale è un esercizio estremamente complicato perché la programmazione pubblica nazionale le procedure di finanziamento dei progetti non sono compatibili sono difficilmente compatibili con la velocità e l'elasticità dei progetti che avete raccontato c'è una rigidità nella finanza pubblica e c'è invece una forte effervescenza di progetti che vengono dal basso contro in programmazioni che vengono da Bruxelles che fanno fatica a parlarsi e questi sono gli esercizi che nei nostri uffici la dottoressa Santoro con gli altri colleghi autorità di gestione dei fondi strutturali noi facciamo giornalmente dobbiamo tenere insieme creatività territoriale programmazione comunitaria spesso come dire si accordano sui grandi schemi ma non riescono proceduralmente a parlarsi questa è una grandissima difficoltà e questo lo sforzo che noi facciamo è creare le condizioni abilitanti perché accada tutto quello che voi raccontate dall'altro lato però noi attiviamo processi di apprendimento anche per noi noi del burocrati io adesso do voce al ragioniere che in me mi dispiace per la drammatica caduta delle argomentazioni che porto fino adesso avete parlato di grande creatività grandi prospettive culturali invece vi parlo di denaro di finanza pubblica l'altro tema è che dobbiamo apprendere come una pubblica amministrazione regionale nel nostro caso debba approcciare a politiche pubbliche di questo tipo noi in qualche modo voi riconfigurate e ridisegnate lo spazio pubblico la pubblica amministrazione come deve ricorganizzare le proprie procedure il proprio stile decisionale affinché quelle cose che voi immaginate possibili si possano effettivamente realizzare questa è una sfida importantissima per noi tanto che dentro il dossier c'è tutta la questione relativa alla creative burocrasi open burocrasi che tende a rispondere a questa domanda una burocrazia pronta a cogliere i fermenti delle comunità che in qualche modo orienta e governa allora questa l'altra funzione dell'apprendimento è una funzione decisiva vogliamo apprendere vogliamo che il nostro apprendimento grazie all'esperienza Matera 2019 possa essere patrimonio non soltanto regionale ma patrimonio nazionale tanto che attiviamo delle reti fra pubbliche e amministrazioni dedicate allo stile decisionale dentro economie della cultura perché di questo si tratta questa è la vostra ambizione questa è la nostra ambizione la scorsa settimana do due notizie ma davvero flash poi dirà qualcosa se vorrà dottoressa Santoro la scorsa settimana c'è stata una riunione di tutte le regioni del Mezzogiorno una riunione tutta tecnica preparata dai presidenti insieme alla conferenza delle regioni la regione basilicata si è candidata e questa è stata appunto la prima riunione ad essere la piattaforma per il Mezzogiorno della digital transformation in qualche modo noi vogliamo essere pionieri ad una trasformazione digitale dell'economia non alla digitalizzazione di alcune procedure amministrative o di pezzi di government ma la trasformazione e l'integrazione delle visioni digitali dentro le politiche di sviluppo quello che a noi interessa molto è modificare stili amministrativi modificare comportamenti acquisire competenze stare in partenariato insieme alla comunità regionale alla comunità di Matera dentro questa prospettiva che da Matera 2019 parte e viene riconfigurata l'altra questione è questa abbiamo fatto una verifica su richiesta del ministro De Vincente e del ministro Franceschini con gli uffici abbiamo fatto una verifica nella programmazione 2014-2020 regione e Basilicata arriveranno circa 3 miliardi di euro al di là dei problemi di funzionamento dei bilanci questi sono soldi della programmazione nazionale e comunitaria di questi 3 miliardi di euro 528 milioni circa sono destinati ad interventi che direttamente o indirettamente impattano sul sistema materano quindi come vedete quindi ci sono tutte le opere infrastrutturali ci sono tutte le opere quelle relative alle periferie ci sono c'è tutta la parte dossier 25 milioni che la regione ha garantito e che sono state anche una delle ragioni per cui la candidatura è andata a buon fine perché avevamo garantito una programmazione unitaria in cui regione comune di Matera fondazione lavoravano dentro un'idea di sviluppo condivisa quindi noi su quella fish ovviamente la garantiamo il tema quindi non sono soltanto la quantità di risorse che arriva ma è il modello di governance che ci diamo affinché queste risorse generino l'impatto che noi aspettiamo l'ultima cosa che stiamo facendo è attraverso il nucleo di valutazione regionale facciamo una valutazione di impatto tecnicamente la valutazione di impatto della regolazione perché cerchiamo di capire come di questi 520 milioni che andranno a planare sul sistema Matera generano gli effetti che sono stati in qualche modo immaginati nelle strategie di intervento e possano anche trainare non soltanto l'economia Materana ma l'economia dell'intera regione verso come dire a farla approdare verso lì in cui c'è un avanzamento istituzionale un avanzamento sociale con la grande partecipazione della comunità ad un'idea di sviluppo che vogliamo condividere noi qui in Basilicata ma credo tutto il mezzogiorno insieme a noi grazie Elio chiarissimo anche sei stata avvincente come ragioniere ti prendo a fare un po' di storytelling grazie io voglio soltanto aggiungere pochissimi elementi perché il dettore Manti ha già spiegato bene qual è il nostro lavoro che appunto quello di far rientrare nei vari programmi nei vari fondi quelle che sono iniziative che servono a valorizzare questo evento Matera Capitale della Cultura e a dargli gli strumenti finanziari per l'attuazione anche della parte infrastrutturale oltre che della parte culturale però questo lavoro non lo facciamo soltanto al nostro interno quindi tra noi e le altre autorità di gestione ma è un lavoro che viene fatto con i soggetti che sono sul territorio quelli che poi spendono fisicamente le somme quindi la fondazione il comune l'amministrazione provinciale e quant'altro quindi io spendo solo il mio tempo per dire che questo è un lavoro che stiamo facendo coralmente e che abbiamo la massima collaborazione da parte di queste amministrazioni che ci sono a fianco nel comprendere le scadenze le modalità e le tempistiche i regolamenti che dobbiamo applicare grazie buona continuazione grazie grazie molto a Edio di Diana che scappano via io vorrei ringraziare di particolar modo vorrei ringraziare anche i tantissimi che ci hanno seguito fino a quest'ora anche i tanti amici con cui abbiamo collaborato come spesso si fa degli amici si parla di meno vedo Giovanni Sant'Antonio della festa della Bruna con il quale c'è una strettissima collaborazione dietro di lui Antonio Candela che con il quale abbiamo fatto scuoteraggio per creare il primo coming center in Basilicata adesso se ne apre un secondo l'Università della Basilicata gli amici del Sicomoro sono stati citati per me sono un grande esempio di collaborazione e tantissimi altri che non riesco a citare tutti per dire al Presidente del Consiglio Comunale che c'è veramente una coralità di intenti e di attività ringrazio anche l'assessore Benedetto che ci ha raggiunto e Giovanni Oliva con cui c'è una strettissima collaborazione in tutti questi anni di mandato come direzione dell'agricoltura crediamo veramente di essere molto aperti e di essere anche disponibili il rapporto che si è instaurato ringrazio anche la consigliera Rubino per l'aver fatto da collaboratrice proprio di interazione con il Consiglio Comunale e quindi chiedo ad Angelo come vede questa partita come si deve giocare nelle prossime settimane perché questa trasparenza sia sempre maggiore e ci sia sempre se posso dire meno sospetto perché se c'è qualcosa che fa male a questo progetto è il sospetto e se c'è qualcosa che fa bene a questo progetto è la fiducia non è il sospetto a volte ma è la certezza dell'errore che è un po' diversa caro sindaco gli errori se ne fanno tanti secondo me l'ha fatta apposta Verri perché fra poco parleremo alle sedie l'ha fatta apposta però voglio dire battute a parte davvero sarò fulminante perché avevo preparato un intervento volevo dare il contributo del sistema camerale comunque chiaro importante però dare qualche minuto di spazio in più come giusto che sia al sindaco per riassumere in maniera più completa la conclusione di questo lavoro una giornata sicuramente nel rispetto e nell'interesse della città che va salutato con grande positività vorrei se mi permetti Paolo parlare come Camera di Commercio certo e credo che il ruolo del sistema camerale sin dal rimarcato dalla rimarcata esigenza della stesura del dossier non l'abbiamo mai fatto mancare nel dossier sono sicuramente presenti le esigenze ma anche le disponibilità di quelle imprese del turismo della creatività delle comunicazioni dell'artigianato e sicuramente quelli che offrono servizi avanzati specialistici che credo in questo momento possono e debbono avere un ruolo sicuramente determinante il nostro ruolo qual è? Il nostro ruolo è la sensibilizzazione da parte delle imprese per poter apportare il proprio contributo per la migliore riuscita delle iniziative programmate è sicuramente un ruolo che vi garantisco non è facile anche per una questione certamente di coerenza perché è giusto che questi progetti debbano essere coerenti con l'obiettivo di incrementare la forza lavoro innanzitutto ma perché no la sostenibilità e lo sviluppo del territorio che credo debba essere non tralasciato quindi il sistema camerale ha questo ruolo di grande mediatore tra queste esigenze e quelle che dico le imprese possono e debbano offrire quindi abbiamo avuto in questi anni anche un ruolo di divulgazione ma anche di promozione essendo anche i progetti che noi abbiamo portato avanti di respiro sicuramente internazionale abbiamo dato sicuramente un sostanziale contributo alla valorizzazione imprenditoriale e al marketing territoriale è inutile che sto a ricordare i progetti di cui li conosciamo tutti e che credo abbiano avuto nel mondo un riscontro di grande positività il punto nevralgico invece di questo di quello che noi dovremmo per il futuro garantire è recepire questi messaggi che ci vengono da tutto il mondo in virtù anche di questi nuovi scenari culturali e socio-economici che devono caratterizzare un po' questo thread union tra quello l'operatività che la fondazione il comune ma anche le imprese possono e debbano fare e vi continuo a dire che la situazione la questione non è sicuramente molto facile dobbiamo assumere una leadership che ci viene riconosciuta da tutto il sistema camerale nazionale internazionale siamo alla sesta annualità sul nostro famosissimo progetto Mirabiglia di cui abbiamo sottoscritto anche con la fondazione un momento di partenariato anche importante avendo portato grazie anche a questo progetto l'attenzione di nazioni come il Giappone come la Germania come la Francia come la Russia e come l'America abbiamo aperto sicuramente grandi opportunità che cosa potremmo e ci impegniamo a fare è nostra intenzione portare nel 2019 ci stiamo già lavorando con ottimi risultati anche perché su questa progettualità abbiamo riscontrato una grande condivisione da parte del Mibact e del Mise abbiamo intenzione di portare nel 2019 la Borsa Internazionale del Turismo Culturale a Matera è una cosa di una importanza strategica senza precedenti e quindi credo che nella salvaguardia sicuramente questo è stato un cardine importante perché ci ha visto metterci nella corsia preferenziale nella salvaguardia sicuramente la tutela del paesaggio della memoria dei luoghi della cultura locale dell'ambiente siamo riusciti sicuramente a porre all'attenzione di questi due ministeri grande disponibilità a far sì che questo possa avvenire quindi è questione di queste ore questa sottoscrizione di questo importante protocollo di intesa che grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione regionale stiamo portando avanti tra il sistema camerale regionale a questo punto e la fondazione per poter sicuramente incentivare ancora di più il ruolo non solo imprenditoriale ma soprattutto sociale delle nostre imprese concludo saprete ma sicuramente il sindaco più e meglio di me riuscirà a toccare questo tasto che è una questione la questione del 5G che oramai Matera è stata individuata come un momento di grande sperimentazione noi questa noi imprenditori questa la prendiamo come un'opportunità ci metterei il punto interrogativo la prendiamo come un'opportunità è chiaro che adesso stiamo accentrando le nostre attenzioni per la sensibilità che queste imprese almeno quelle che credono in questa nuova tecnologia possono e devono avere però ci chiediamo la nuova tecnologia riuscirà a compensare quelle mancanze anche infrastrutturali io ritengo che questa è una sfida che il sistema camerale dell'impresa sicuramente sarà pronta a accogliere grazie grazie Angelo io vorrei chiedere al sindaco di raccontarci un po' le azioni in corso noi avevamo anche una slide che avevamo prodotto per il ministro Franceschini insieme ad Antonio Nicoletti proprio su tutte le infrastrutture diciamo di culturali previste che vediamo se riesco a metterla no vabbè facciamo e appunto volevo chiedere un po' e volevo anche ringraziare ringraziare non solo la presente ma anche la precedente amministrazione ricordare anche Salvatore Raduce per tutto l'apporto che ci ha dato in fase di candidatura ringraziare la presente amministratore per tutto quello che farà per realizzare il dossier così come era previsto quindi grazie e buone conclusioni al sindaco sì grazie io cercherò di essere breve perché l'ora è tarda però prima di entrare nella materia e nei problemi e credo che dobbiamo fare una riflessione di che cosa ha rappresentato questa sera questa sera è una presenza di una condizione non per rilanciare ma per affermare ancora una volta quel processo propositivo che la città aveva sempre indicato e che poi ha portato alle conclusioni che ha portato oggi siamo nella condizione che dopo i problemi di cui ha parlato Manti la fondazione ha la possibilità di avere al suo interno quelle energie e quell'organigramma capace di guidare e quindi di orientare e di controllare tutti i processi e i progetti che sono all'interno del dossier cioè siamo in una condizione ottimale operativa cioè non si parla più faremo ma adesso si può fare perché esistono le risorse e esistono le donne e gli uomini sulle risorse vorrei solo dire una cosa che il comune ha già garantito risorse tali per cui i due progetti in atto quello dell'open e quello dell'idea sono stati così sono stati possibili per un investimento del comune di 600 mila euro in più c'è tutto un processo già predefinito in cui i famosi 5 milioni cui il comune deve dare come suo apporto alla fondazione sono stati già indicati e sono stati già definiti e sono in definitiva l'operazione di trasferire risorse che vengono dall'esterno dal comune alla fondazione perché ovviamente è impensabile che all'interno del bilancio comunale ci siano risorse tali da garantire i 5 milioni di euro detto questo noi abbiamo in questo periodo aggregato progetti e risorse per circa 130 milioni sarebbe stant'io starvi a indicare i progetti e i processi posso solo dire che sotto un profilo diciamo di indicazione ci sono i 5 settori di intervento sono stati raccordati attraverso questi 5 punti chiave che sono scusate un attimo sono i fondi del ministero dei beni culturali i fondi legati alla legge di stabilità i fondi legati ai piani per le periferie i fondi legati ai POFERS 2014 2020 ed altre iniziative qual è l'obiettivo dell'amministrazione è quello di poter creare la qualità urbana e la qualità sociale della città prima e dopo il 2019 poi c'è il grande problema che bisogna anche creare la qualità economica perché senza una qualità economica tutta la qualità europea che la città potrà esprimere non potrà reggersi da sola questo è il grande problema come e qui entra in campo il riflesso diciamo speculare con la fondazione e col dossier lo slogan è molto semplice trasformare i vicinati contadini in vicinati digitali e questo è il grande impegno che in questo momento l'amministrazione sta realizzando innanzitutto con un finanziamento già concesso e già esistente di oltre 6 milioni e 500 mila euro per creare nella città di Matera di servizio della banda ultralarga a questo si è accoppiata l'altra grande operazione e successo della città che è il 5G cioè noi dobbiamo trasformare questa città in un punto non solo di servizi digitali ma di creatività di queste nuove tecnologie a servizio soprattutto delle imprese e a servizio del territorio dove realizzare questo punto di riferimento questa hub centrale nostra intenzione o scelta è quella di utilizzare la struttura della vecchia ospedale della vecchia biblioteca provinciale dell'attuale Università della Basilicata di San Rocco in questo centro di riferimento operativo legato a aggregare e a accogliere queste strutture capaci di proliferarsi e quindi di poter esportare all'esterno i risultati della ricerca è un lavoro duro però l'attrattività della città è straordinario tanto che oggi dove c'è stata una grossa delegazione canadese di italo-canadesi questo è stato uno dei punti di loro riferimento perché Toronto da cui provengono è ormai la città leader all'interno del Nord Euro America di questa operazione ma poi c'è l'altro grande problema che noi dobbiamo affrontare gli spazi dove poter esprimere la comunicazione culturale ci sono due situazioni di crisi ormai è stata certificata la impossibilità di utilizzare quello che era nel dossier la proposta del teatro cioè l'arca di Prometeo e anche naufragata l'operazione Duni perché i proprietari hanno rifiutato l'offerta del comune di 3 milioni e 500 mila per l'acquisto devo dire che l'indicazione del Duni non solo era venuta dalla città che premevano perché il comune potesse attivarsi per salvare quella struttura ma devo dire anche a livello nazionale parlo di Palazzo Chigi avevano ritenuto che non era possibile costruire una struttura teatrale a Matera laddove ci fosse una struttura alternativa sono venuti a Matera hanno verificato la qualità del Duni e ci hanno stimolato a attivare questa procedura di acquisto che però ovviamente non ha avuto successo per il rifiuto perché i proprietari hanno ritenuto non congruo il prezzo offerto e noi siamo una pubblica amministrazione che non possiamo entrare nella dialettica del mercato e nella mediazione del mercato però noi abbiamo già appaltato la riqualificazione dei due cinema teatro locali cioè il cinema Kennedy e il cinema comunale che alla sua apertura sarà chiamato cinema Pasolini quindi quelle due strutture per fine 2018 saranno praticabili abbiamo anche riproposto il tema del recupero del teatro Quaroni alla martella ci sono gli altri spazi che sono in giro per la città che potranno essere ridefiniti e riqualificati soprattutto alcuni spazi all'aperto e rimane il problema della Cava del Sole la Cava del Sole è oggetto è stato oggetto di un'indicazione dell'open su questo luogo straordinario che al di là di sua funzione di spettacolo o di ospitare momenti di comunicazione e di diffusione culturale può già di per sé diventare un punto di attrazione della città sotto un profilo delle visite e delle visite interattive nella città adesso dobbiamo sederci al tavolo e capire come insieme risolvere il problema di questa struttura io ho una visione che è anche stata espressione di un incontro con di un dibattito in consiglio comunale che quella è una struttura di tale forza non per niente si chiama Cava del Sole che deve vivere con la luce e con il sole non può vivere in un marsupio e quindi questo è uno dei punti su cui dobbiamo discutere perché è chiaro che noi di fronte alla impossibilità di utilizzare il Duni dobbiamo in prospettiva guardare alla costruzione di un'area che non è un'area teatrale ma è un'area dove deve essere multifunzionale e quindi un'area capace di ospitare tutti le momenti di aggregazione della conoscenza della cultura e anche non solo della cultura e quindi ma in attesa di questa ipotesi l'unica quella concreta per poter garantire alla città almeno per il 2018 e il 2019 una struttura chiusa è quella di trovare la possibilità di costruire e ci sono le condizioni anche le risorse finanziarie di un teatro di una struttura diciamo non permanente che possa ospitare intorno alle 2000 persone questo è lo scenario di cui noi abbiamo discusso sia nell'attuale giunta sia anche nei raccordi che ci sono stati in questo periodo a livello interno del Consiglio Comunale cioè si sente la necessità di creare questa struttura momentanea in attesa del futuro dal momento che il Luni è finito in una situazione ingloriosa e poi ci sono tutte le altre iniziative legate alle attività culturali che sono diciamo all'atere del dossier e mi riferisco ai due punti forti del programma elettorale per cui oggi sono sindaco i due grandi punti elettorali erano la necessità di costruire il grande parco tematico della storia dell'uomo e anche di creare le cosiddette officine della cultura e su questi due aspetti noi stiamo lavorando addirittura sui parchi tematici proprio all'epoca del governo Renzi noi abbiamo avuto la possibilità di un supporto progettuale da parte di Invitalia e si stanno realizzando i progetti dei quattro parchi tematici mi riferisco a quello che era uno slogan molto singolare e sintomatico di poter rappresentare la storia dell'uomo dai buchi neri di una grotta paleolitica ai buchi neri dello spazio quindi il parco tematico del preistore il parco tematico della civiltà rupestre il parco tematico della civiltà contadina e il parco delle stelle e nello stesso tempo c'è l'amontamento di creare la scuola di produzione culturale che secondo una valutazione fatta dovrà soltanto per il momento affrontare i due temi forti del teatro e del video perché la musica abbiamo il conservatorio e sarebbe improprio e incoerente fare una scuola per la musica e questa questa struttura dovrà diventare il punto focale di una presenza stabile di preparazione e di formazione finalizzata alla produzione di uno spettacolo o di un video o di un'altra attività legata alla visual di un'altra di un'altra che è una qualcosa che individua con forza il ruolo della città come area della cultura della conoscenza e della cultura della produzione culturale poi ci sono i grandi temi che guardano sulla qualità della città su cui sarebbe complicato affrontarli oggi una cosa è certa perché nell'ultimo incontro su piazza della stazione diventata poi piazza Matteotti e poi piazza della visitazione l'idea che è ormai in una posizione di possibile realizzazione è quella che quel luogo diventi un luogo di raccordo e di rapporto intergenerazionale cioè noi non abbiamo un luogo dove oggi anziani e bambini possono stare insieme e possono confrontarsi e possono arricchirsi dalle reciproche presenze quel luogo deve diventare non già la piazza perché la piazza è il luogo degli adulti è il luogo dei rapporti interpersonali della politica della religione dell'economia dell'amore invece ci manca un luogo dove anziani bambini e anche generazioni intermedie possono vivere la loro giornata in un discorso sperimentale e esperenziale questo dovrà diventare piazza della visitazione per cui come è avvenuto e abbiamo discusso l'altro giorno all'auditorio la giunta comunale in tempi rapidi non appena si ricompone il governo della città dovrà deliberare un affidamento a un progettista di livello nazionale e internazionale con questo indirizzo e con questa prospettiva quello che non siamo riusciti a fare e a ottenere sono invece alcune questioni legate alla mobilità ho sentito che c'è stato quest'altro incontro con 520 milioni di euro io mi auguro che in questi soldi ci siano le risorse per creare il raddoppio selettivo della Altamura Matera sulla ferrovia delle Falle perché solo con questo raddoppio selettivo e con la riqualificazione di quella tratta noi avremo la possibilità di raggiungere Bari in 55 minuti come è l'obiettivo perché nel frattempo sono appaltati i lavori per lo snodo intermodale di Serra Rifusa e con la definizione di piazza della visitazione anche la questione stazione centrale di Matera dovrà essere risolta tutto questo perché perché noi come abbiamo visto in questi giorni tra poco saremo veramente affogati o occupati da una presenza di visitatori e se non ci attrezziamo in tempi rapidi la città potrà essere soffocata da questa presenza massiva sia di pullman e sia di auto perché l'altro grande problema è come snellire il traffico in via Lucana noi l'avevamo pensato col piano ciurnelli ma il piano ciurnelli praticamente non ha avuto l'assenso dai consiglieri comunali e allora noi dobbiamo rispettare democraticamente i risultati ma nello stesso tempo dobbiamo trovare le alternative detto tutto questo in questo momento così ormai tarda in tarda ora che cosa mi viene di riflessione da questa serata sono invidioso come sindaco dell'organigamma della fondazione perché l'avessi al comune cioè come vedete in tempi rapidi si sono fatti i concorsi si sono fatte le selezioni si sono presi le persone le avete troviste motivate ardenti stimolanti noi siamo senza il dirigente dell'ufficio bilancio e finanze del comune da due anni perché le istituzioni pubbliche sono vittime di una camicia di nesso che sono le norme perverse del contenimento della spesa e stiamo a caccia come diogene in Italia della mobilità di qualcuno che dopo anni decida di scegliere materia come suo punto di lavoro per fare il dirigente questo questo termine della mobilità è divinato elastico c'era un termine perentorio entro il 30 settembre 2015 dal termine del 30 settembre dove si è arrivati a oggi è ancora flessibile noi al comune abbiamo due dirigenti di ruolo il sindaco di Bergamo si è lamentato l'altro giorno in televisione perché lui non può gestire la città perché ha 650 dipendenti e 14 dirigenti io ho 300 dipendenti di cui 143 categoria A e B ex copes eccetera eccetera e due dirigenti e mi è impedito dalla legge di poter assumere altre persone pur avendo la possibilità finanziare perché il comune di Matera è finanziariamente in perfetta situazione mi è impossibile e allora tutti i lavori di cui si parlava prima dell'open della sede del 2019 sono affrontati da persone che fanno gli eroi tutti i giorni ma una società non può vivere di eroi allora io credo ecco c'è qui l'amico Benedetto il 6 il 6 maggio io debbo convocare i parlamentari i consiglieri regionali gli assessori regionali della provincia di Matera per porre sul tappeto il problema di una struttura comunale che è nella impossibilità di affrontare i temi che ci sono di fronte anche perché un altro dirigente come voi sapete è stato trasferito in un altro ufficio questo è il vero problema della nostra città abbiamo tentato in tempi lontani di ottenere dal governo centrale o deroghe ma soprattutto di ottenere un patto di un accordo di programma che ci consentiva di poter ottenere queste risorse e ci è stato negato siamo arrivati addirittura a chiedere un commissario per l'operazione degli interventi specifici sul capitolo delle opere pubbliche e ci è stato negato abbiamo chiesto l'aderogo all'assunzione dei dirigenti e ci è stato negato tutto questo è il vero grande problema della città perché se noi avessimo una forza d'urto dello stesso livello e della stessa tensione di cui voi avete oggi avuto un raccordo noi potremmo risolvere i problemi storici e insoluti della villa comunale della traffico nella città delle videosorveglianze di alcuni interventi nei sassi perché siamo in una condizione di difficoltà operativa però questo è lo scenario che io posso dirvi noi non ci arrenderemo ovviamente perché non ci siamo mai arresi e andremo avanti ma andremo avanti come qualcuno ha detto correttamente con un nuovo slancio e con la nuova necessità di trovare come abbiamo fatto già con l'incontro nell'auditorium continui colloqui con la città per trovare da voi quelle indicazioni e quei suggerimenti io vado dicendo da tempo aiutateci a non sbagliare questo significa un rapporto sano e dialettico tra il governo della città e le donne e gli uomini che appartengono a questo territorio e allora chiudo con questo messaggio di speranza e soprattutto un messaggio forte per tutti Matera dovunque io vado ha avuto ormai un riconoscimento di autorevolezza dovunque io vado tutti guardano a questa città come un simbolo dovunque io vado guardano questa città come una specie di meteorite che è caduto nel mezzogiorno allora di questo noi dobbiamo essere non solo orgogliosi ma anche responsabili evitiamo evitiamo ancora di farci male tra di noi ritroviamo il gusto di lavorare insieme ritroviamo le energie per amare ancora di più questa città e soprattutto diventiamo protagonisti di questo modello del mezzogiorno che come dico con una litania ormai petulante vuole essere una città che non si lamenta e che esprime con forza le energie per costruire un futuro diverso questo è il messaggio che io volevo dare stasera a chiusura di questa serata abbastanza faticosa ma che è lievitante se noi porteremo a casa il meglio di noi e le maggiori speranze che noi abbiamo nel cuore per questa città grazie non abbiamo ovviamente niente da aggiungere se non dare appuntamento a tutta la scena creativa domani alle 15 qui per lavorare tre ore con Arean B.U e cominciare a selezionare i progetti e capire che di questi appuntamenti sia plenari che anche più a gruppi di lavoro ce n'è maggior bisogno perché credo che tutti abbiamo imparato un sacco di cose che non sapevamo di uni dagli altri e questo se vogliamo è un'opportunità ma è anche un peccato grazie di aver accettato questa lunga sessione di lavoro e a prestissimo per continuarla arrivederci